Buongiorno a tutti in caso di essere qui. Buongiorno a tutti. 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 Purtroppo questo evento è stato organizzato nur tryna due giorni e questo è perché siamo Schmidtiamo dieci a inviato alla richiesta di partecipare specifically in Papua da dieci giorni. quindi avevamo voluto fare molto tempo e quindi tutto questo non c'è altromesi ancora di fare account, pubblicità adeguata. bene dei ritmi grazie, vi amano una buonaok岫, allora grazie al sindaco e grazie a tutti i senatori che sicuramente saranno anche a quella di me per le affrontare dei dati di oggi. Buona giornata a tutti. Buongiorno, io anche io ti sarò brevissimo perché ci aspetto a una giornata lunga, molto densa e interessante. Io rappresento non l'ordine degli avvocati ma l'associazione italiana dei giovani avvocati. Ma sostanzialmente come categoria sono contento che le belle paradelle sindaca abbiamo provato a coinvolgere i nostri colleghi per far rilevire la mattina, sono d'accordo su quello che ho detto. Ovviamente la mattina per gli avvocati stesse complicata, spero che nel pomeriggio ci sia qualche presenza in più. Anche perché io sono stato molto contento di essere stato coinvolto in questa organizzazione e a mano a mano che ho visto crescere la locandina sono stato molto felice di vedere che oggi avremo tanti punti di vista differenti, non solo di avvocati o comunque giuristi o che ha a che fare con il diritto, ma ovviamente con assistenti sociali, psicologi, giornalisti, solo dei giornalisti penso che potremmo passarci la giornata a parlare di questo tema. Quindi insomma è sicuramente interessante. Cosa fa in questo contesto laica i giovani avvocati? In generale noi proviamo, pur trattando spesso di temi tecnici, proviamo a inserire qualcosa che nelle professioni ultimamente è sempre stato messo da parte, cioè l'etica. Ci proviamo quando il tema ce lo consente. Vi dico per esempio i nostri prossimi eventi, così con l'occasione vi invito se potesse interessare. Noi venerdì abbiamo un convegno di diritto penale, ma il tema è quello della tutela dei soggetti vulnerabili del sistema penale. Quindi lo affronteremo di profili processuali, ma anche psicologici e filosofici. La mattina dopo, il sabato, parleremo di diritto commerciale, ma parleremo del nuovo diritto fallimentale, diciamo così, la crisi dell'impresa, ma affronteremo comunque guardando quello che sono i debitori e i creditori in un momento molto particolare della loro professione e della loro esistenza. Il venerdì prossimo parleremo del dissesto dei benefici locali, del piano di riequilibrio, anche in questo caso nel tema molto tecnico, molto attuale, sentito. Guarderemo anche questo, anche con un avvocato Stanizzi del presente oggi, parleremo anche della tutela dei debitori, dei creditori e dell'amministrazione del bene pubblico. Ecco, quindi anche in tema tecnici trovare dei segnali è importante. Io mi fermo qui, vi auguro un buon lavoro, è una giornata interessantissima, mi auguro che tra il pubblico oggi come il pomeriggio ci siano non solo professionisti ma anche cittadini, perché da un evento del genere se ne esce accresciuti non solo professionalmente ma anche umanamente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e si vede di uguale e di minori e di minori, però questo convegno vuole farsi anche parlando di un messaggio di accoglienza, di rispetto, di avere più una persona, persone di necessità. Verso quello che posteriggiamo, ci imponiamo di considerare il netto, magari solo qualcosa che non conosciamo, e questo perché la discriminazione è un fatto produtturale, naturalmente nessuno è portato a sentirsi superiore all'altro, naturalmente nessuno si interessa alla vita degli altri e alle caratteristiche che loro già distinguono, in maniera tale da decidere se quello che è o quello che fa può essere talmente giusto o sbagliato e renderlo o meno benzevole di rispetto e di considerazione. Quindi è una scelta, possiamo forse andare a cercare. Però io mi sono resa conto parlando con gli altri organizzatori del netto, prima, quindi in sede di organizzazione, e dopo con gli eratori. Mi sono resa conto che molto spesso le discriminazioni possono essere anche molto tradizionali, possono essere anche volontarie, quindi possono essere l'effetto di lacune che abbiamo, ma abbiamo anche di lacune di qualcosa che non conosciamo, quindi quelle lacune che continuamente tutti poi ci troviamo a salutare. Quindi si parte dalle riflessioni per cui, oggi partiamo, la riflessione per cui discriminazione è sicuramente specularmente contrario all'eguaglianza, anche l'eguaglianza. Non si deve interpretare nella sua, non si deve intendere nella sua accensione spettamente corruale, ma si deve tradurre nell'esposto anche in canale, per cui il diverso esiste, il diverso deve esistere. Girarsi dall'altra parte, quando diciamo qualcosa che non ci piace, non lo mentalizza, e soprattutto il diverso non deve essere necessariamente pericoloso o inesistente. Questo esistente comporta semplicemente allo zai dei limiti, dei limiti che diventano come dei muri sempre più imbaricanti, dietro i quali ci potremmo trovare anche loro, perché da poco è meno, non vanno le cose. C'è sempre un luogo diverso da odiare. Quindi questa è la teoria che io oggi voglio fornire. Ponetevi sin da adesso l'obiettivo di ascoltare gli interventi che vi si accenderanno per poco. Ascoltateli e ascoltateli i casi che vi avevano portati ad esempio. Però mettevi fin da subito l'obiettivo di abbrimentare le diversità, ma di farvi un modo naturale. Così come naturalmente, non so, un gattino accoglie i suoi cuccioli e il proverito da sfamare. In quel momento non sta pensando che l'abbiamo già un diverso o un bucciolo. È un bucciolo. A fare una mamma non serve nessuna altra motivazione per dare il suo movimento. Così come apriti la diversità con un coraggio, con lo stesso coraggio, la stessa specializzazione di un ragazzo di 18-19 anni che si iscrive all'università perché vuole essere un assistente sociale, un avvocato, un turista, che vuole il suo lavoro all'eserfizio di chi ha bisogno della sua luce, dei suoi ideali e non l'altro. Quindi io ti auguro un buon lavoro e iniziamo la giornata. Purtroppo la scaletta degli interventi non si pirano logicamente la scaletta degli stellorandini. Questo perché ci sono degli impegni dei nostri relatori per cui non abbiamo potuto sacrificare i loro esperti per costituzione senza provvedire e non venire. Quindi l'originale costituzionalmente non comporta nessun effetto, qualsiasi riuscito, che comprendo. Però è un altro per una recitazione. Io vorrei iniziare con il lavorato Giancarlo Stanizzi e quindi iniziamo la giornata e iniziamo a trovare un lato di discriminazioni sul lavoro. e in particolare come le discriminazioni sul lavoro, se le disabilità del mantenimento, sempre durante il tempo, in maniera costante, possano tradursi in quel fenomeno che si chiama mobbing. Quindi quanti casi di mobbing esistono? Quanti rimangono soffersi? E quanti invece si dovrebbero denunciare? E cosa comporta molto spesso denunciare? Parlo di questa cosa perché il lavorato Giancarlo Stanizzi ha seguito una donna, che si chiama Maria Teresa Furi, una impiegata del virus di Otonio. Questa donna da un po' di anni vive il calmaio del mobbing. E' un caso di cui sei interessato anche nel caso del virus di Otonio, ha fatto diversi servizi. E quindi vorremmo, prima di lasciare la parola all'avvocato Stanizzi, potrei poi ciò mostrarvi un ottimo spizio insieme. Buon lavoro. Questo giudizio positivo di già promossa dirigente della signora Restauro Infante, mentre oggi gli permette di guadagnare 250.000 euro per un ente pubblico, prima di spiegare cosa c'è che non va in questo documento scritto appena, definiamo un attimo di attenzione, perché dovremmo farvi vedere un po' di tracciamenti per raccontarti una storia assurda che se non fosse vera, sembrerebbe inventata. Per prima cosa, bisogna sapere che per entrare in un ente pubblico bisogna superare un concorso pubblico. E sia a bando degli entiti del concorso del genere, ovviamente con ciò lo scherchio a mano sul foglio di carta qualsiasi, ma vengono pubblicati su una canzetta ufficiale e sono a disposizione di tutti. Ma c'è un'altra cosa strana, il concorso che sostanzialmente dà alla dirigente un posto da 150.000 euro all'anno è timbrato e firmato dal Copros, un ente che, come dice la Guardia di Finanza, non può conferire lo status di dipendente pubblico. E allora come ha fatto questa signora a diventare dirigente dell'Ips? Dal Copros chiede il trasferimento al Ministero dei Corpi di Finanza, dove il caso strano lavora una sorella e improvvisamente diventa dirigente pubblico. Poi da lì passa all'Ips e il gioco è fatto, perché nessuno richiede più niente. Nella cronaca ci sono altri suoi colleghi che hanno chiesto il trasferimento dal Copros al Ministero di Economia e Finanza. Ovviamente, nessuno l'ha ottenuto. Quindi, 8 anni fa, la dottoressa Alpuri chiede come prevede la legge di vedere il concorso pubblico che ha permesso l'infante appena insediata di essere dirigente. e l'Ips ha risposto che non veniva a fare me, che non mi compreteva per queste informazioni. Anche la figlia, che è avvocato, scrive l'Ips per avere riferimenti. Mi hanno detto che il direttore del personale era certificato per regolarità e quindi che era tutto a posto. Ho iniziato una serie di atteggiato stile da parte del futuro che avevano i miei confronti. E l'ambiente mi è stato tolto. Mentre, prima delle sue richieste, dirigeva dei dottici. E dopo le sue denunce, invece, il mio compito era di smestare le caselle istituzionali. La postina almeno si alza dalla con le persone. Quello significa non venire a nessuno se avesse tutto lato. Chiusa nel suo ufficio a non fare niente per anni e anni. Ma Maria Teresa non si dà per vita. Mi manda a me il suo capo chiedendogli poter si sarebbe utile. Sono sempre in attesa. Quelle attività mi sono consentite. Ha detto che mi siano assegnati i compiti. Ma non avendo mai risposta. Maria Teresa si ammalata. Ha una pressione molto forte. Io sto male. Molto male. Non è facile. Ho sentito tutte le mattine di resti e vai comunque al lavoro. Mi aiuta solo il fatto di avere una coscienza al posto. Ma quando sei seduta lì che pensi nel tuo ufficio tutto il giorno? Mi leggo sentenze di moglie da notte. Già, anche se tutti i diretti che sono in quella sentenza adesso sto bene capito. Insomma, una brutta situazione che avevamo cercato di chiarire andando dai suoi capi diretti a chiedere spiegazioni. Non ci risulta che la signora a cui io lavori. Ha iniziato ancora l'ora e tutta volta voleva sapere se il suo capo ha il titolo di quest'area dove sta. Mi sta verificando che tutto è regolare. Anche davanti alle telecamere abbiamo continuato a fare dei fili di parole senza senso. Bastava rispondere a una semplice domanda. Nel concorso pubblico, io e la dottoressa il fatto di una dirigente. È stato fatto? Sì o no? Sì. Dicevamoci domanda. È venuta da come dirigente dell'ambito estero e dell'economia. L'ha fatto o non l'ha fatto risposta? No. L'ha fatto il concorso o non l'ha fatto? L'ha fatto? Io non l'ho fatto nulla. Ma stiamo veramente scherzando? Non sei occupato lei? Ecco, ma non è occupato perché lei si occupa della sua televisione delle notizie meteorologiche. Ma che risposta è? La signora infanzia dove lavora? Lavora in faccia. È una sua dipendente. È una sua dipendente. Dipendente. E se è un direttore del giornale, lui dipende da lei? Non è anche sopposto verificare se la sua dipendente ha o meno i titoli quest'anno o quest'anno? Lì se l'ha già accettato per il titolo. E allora questo documento della parte di finanza in cui si dice la signora non ha mai partecipato a proposti pubblici e ricoprirebbe l'incarito di direttore degli intus mediante archivizi e ragioni. Che cos'è? D'acqua straccia. Surreale. La classica storia italiana. Per lei è tutto a posto. Si è solo la responsabilità di dirvi. Tutto a posto. C'è un concorso che vi scampava. Lei ha detto che è tutto a posto. E visto che il direttore regionale sembra non voler fare chiarezza è la stessa parte di finanza di ipotizzare. Truffa, bravate danni dello Stato, bravate della signora infante. Visto che, secondo le sue indagini, non ha mai partecipato a concorsi pubblici. Ma in cui abbiamo scritto al Presidente dell'IPS, Dito Bonetti, che è un'incontrata di un dichiarimento. E la risposta è stata. Considerando una ricerca di sale di un periodo durante il quale il Presidente Boer non era il bene di istituto perché riguarda la gestione delle risorse omate, non si ritiene opportuno. Poi era una vostra ripesa. Presidente Sato, io vi do il suo amore, nel caso della dirigente di Catanzaro, che su delle menove ha fatto il concorso, non ci può aiutare la spagliarizza? Io non seguo queste cose innanzitutto il mio amore. Sì, io sono Presidente dell'IPS. Adesso, lei sa che la dirigente è pure stata messa da parte, adesso è stata anche sanzionata per Tavano Noi. Non conosce la legge per il Mr. Bloem? Quanto scorso, finalmente, anche in Italia è stata fatta la legge che protegge il Mr. Bloem. Cioè, come Maria Teresa, denunciano in regolarità all'interno della pubblica amministrazione della ruota di un'azienda. D'ora, se siete qui, è adetta, mostri una abbia utilizzata UTI di riunione del libro di denunciare in regolarità. Ma questo è quello che dice a parole. E i fatti, però, Maria Teresa, è stata anche sanzionata. Le dichiarazioni delle rilasciate alle IN sono state segnalate per la valutazione di competenza e il prossimo 3 maggio si troverà davanti alla direzione generale a rispondere delle sue dichiarazioni. Altro che dare la possibilità ai dipendenzi degli IMS di denunciare... Ma lei ha verificato queste regolarità se c'è o no. Ha visto il concorso che risulterebbe ha fatto la dirigenza e questo qui guarda, e compontiando qualcosa se ne va, se ne lavoriamo mai così, cioè può darci una risposta, è una cosa molto grave, sono molti dei cittadini questi, Presidente, abbiamo già chiarito, cioè lei mi dice che si può arrivare alla dirigenza dei Lynx senza fare il concorso, nel caso, ma il Presidente dei Lynx di cosa si preoccupano di questi casi, ma l'abbiamo fatto tutto regolarmente, ma l'abbiamo visto il concorso, ma l'abbiamo fatto tutto regolarmente, e secondo lei che è una dipendente che ha c'è sto chiavezza, me l'ha messa da parte, e dopo che parlavano qui delle iere ha avuto anche una lettera di richiamo, questo è una ricostruzione di parte, non l'avete sentito da altre parti, ma questo non è vero, l'abbiamo sentito, anche la Dottoressa è fan, lei ci aveva risposto così, per cui chiederle se lei può mostrarci questo che hai detto concorso che ha fatto per arrivare a Lynx, se non è il caso anche i cittadini di questa cosa, sono tanti anni che si chiedono a sì le cose, lei ha fatto adesso un concorso, se non lo è un caso strano, l'unica cosa che gli viene chiesta da 8 anni, non se la ricorda, ma perché io non ce l'ho fatta dicendo che un altro, che passaggio ha fatto, un attimo, che passaggio ha fatto d'un lavoro a Lynx, se posso ce lo può dire, scusi se è perché, per favore, perché io non ce l'ho fatta dire che sono un concorso, secondo lei non è giusto appicchiarire di sta cosa, assolutamente, io glielo faccio vedere, cioè è una cosa importante, comunque sono soldi pubblici a raggiare, come no, e lui invece le ha sentite tutte le parti, ma lei diciamo che è malato, sai che è malato, ha prenduto il psicologo, sai quanti dipendenti abbiamo, andiamo qua, non è andato sì, ma intanto aspettiamo che voi rifacciamo modamente il suo cazzo, per chiedervi al vinto di proteggere l'alberia inferiore del gioco, io vi chiedo per favore solo, vi ha il cura che va di rinventare a voi, io voglio rispondere a una domanda mia, questa è una vicenda di 8 anni fa, iniziata con un provvedimento disciplinare a fronte della persona che adesso se la prende con la dirigente, poi non ha di fatto, a te che vi siete presidici, ma... Non iniziate con questo, ma... Ciò che adesso, l'importante non è sapere se la dirigente è il titolo di pensare dove sta, l'importante è puntualizzare l'inizio della storia, come se fosse la vita tra due macchini che si contengono una macchinina, ma comunque è una dipendente modello che ha sempre lavorato bene, sta molto male, lei ci promette che almeno stare attento a che non succeda qualcosa di grave perché sta sotto psicofarmaci, non lavora più, ne hanno messa da parte, ci promette almeno questo, no? Non ci pensate poi alla salute delle persone che voi sparate sulle televisioni? Sono delle persone che sono magari meno forti, meno in grado di difesa... Questo aiuto, mi so che dà aiuto a fare... No, lei ci pensi, perché lei è una coscienza... Secondo me è il problema della televisione o dei mix che non fa chiarezza? Ci non vengono mai così? Questa è la fine che fa chi cerca trasparenza e chiarezza all'interno degli enti pubblici e così mandiamo tutti i documenti all'altra, che ha come missione istituzionale la trasparenza di tutti gli aspetti della pubblica amministrazione nonché attività di vigilanza nell'ambito di contratti pubblici ci dice che il Presidente Raffaele Cartone, che ci deve subito specificare che il problema avrebbe dovuto essere risolto dall'interno di appartenenza L'INPS, però se l'INPS che poi non l'ha controllato, chi è il controllore? Il Ministro del Lavoro e il Ministro delle Finanze, che però può controllare in generale come si comporta l'INPS, con riferimento al caso specifico Quindi se ci sono poi delle irregolarità che vengono però fatte passare in mani regolari Se ci sono delle irregolarità che hanno conseguenze contabili ci potrebbe essere, per esempio, un intervento da parte del rapporto dei conti E a questo punto, Cartone sottolinea che quando all'epoca era venuta conoscenza di questa storia ma era fatto tutto impossibile Noi abbiamo mandato un primo atto, dicendo, che è l'orientazione pervenuta relativa all'incarico dirigenziale che sarebbe stato ottenuto contro la legge non rientra nella nostra competenza Presidenza del Consiglio, il Ministro della Funzione pubblica ma da cui, a detta sua, non ha mai ricevuto risposte risposte che, però, ha ricevuto la dottoressa Alpuri a cui, nel lontano 2012, arriva questa lettera che dice la Direzione Centrale delle Risorse Umane degli INPS dichiara di aver accettato la regolarità della posizione della dottoressa infante e quindi è tutto regolare Capita la sturdità e il proprio sessualista e il controllore sull'autobus ti chiedeste il biglietto senza farglielo vedere le artisti che ce l'ha e a quel punto lui se ne va senza farti la multa e se loro attestano che gli INPS ha detto tutto regolare qua, nessuno sarà mai niente si, 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 ho già un giudice ma, nell'attesa che si arrivi alla sentenza di un giudice chi ha denunciato può essere tutelato perché, intanto, passeranno anni la sentenza del giudice di lavoro è in terreno in pochissimi mesi io non so se la signora si è rivolta al giudice di lavoro si è rivolta, sì, ben quattro anni fa e non c'è ancora neanche la sentenza di primo grado altro che pochi mesi proviamo l'ultima carta e andiamo direttamente dall'agricente del Dipartimento della Funzione Pubblica ma, guardi, sono dovute mandare le trevatezze ormai in caso è stranoto state risolvendo la situazione stiamo approfondendo la situazione la conoscete al 2011 ok, ma anche dal fin del 2011 ci sono dei elementi che non erano nota sono i bei stessi, dottoressa ma i bei stessi evidentemente voi li avete intitulati prima di immaginarlo no, ma voi lo sapete dal 2011 poi c'è questa nota, firma sua ripeto, stiamo facendo degli approfondimenti mentre quando possiamo avere una risposta perché questa cosa è veramente diventata grave è legata che c'è tutto il suo volto vedete la settimana prossima giovedì? sì a che ora? eh no, perché è tutto molto vario abbiamo bisogno di una soluzione a questo caso ci vedete rispondo giovedì prossimo e mentre aspettiamo la risposta ci basa l'occhio una cosa molto strana la carigrafia con cui è stato scritto l'esito del composto vinto dall'infante è molto simile la sua carigrafia che c'è nella richiesta di trasferimento tra Ministero delle Finanze e IMS e se fosse davvero così vorrebbe dire che si sarebbe scritta al composto da sola non ci resta che farlo esaminare un peritografo ci sono molti elementi le cose sono nella stessa mano questa è quella che sicuramente è stata scritta dalla dottoressa Infante che è la richiesta di prodotti mobilità e questa invece è quella che dobbiamo vedere nel cast del composto qui vedete una R che è molto acutita che ritroviamo anche in questa poi c'è questo movimento anti-orario che è definita cartucciata e lo ritroviamo anche in questo poi c'è questa distanza, questo staffo che ritroviamo anche qui poi osservate anche le due gambette della Emme la prima gambetta, sembrano mai, eccola ancora qui l'altra invece è che sono pastina ed è anche qui quindi ci sono veramente molti elementi che mi fanno pensare che molto probabilmente è stata scritta dalla stessa mano e se fosse così sarebbe davvero uno scandalo intanto la dirigente dell'ispettorato pubblico ha saputo solo dirci che stanno avviando un'indagine un'altra volta, non ti sono bastate 8 anni per capire se sto concorso ci sta o no? e intanto Mare Teresa Arturi sta sempre peggio dirigente dell'Ips, presidente Poeri, presidente dell'anticorruzione e ispettorato della funzione pubblica potete parlarvi un attimo in mente della parola che mi ha questa vergogna? buongiorno a tutti grazie 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 Stiamo parlando dell'IWS, mentre, come voi tutti quanti conoscerlo, gestisce gli interessi, le pensioni e gli assistenziali dei cittadini italiani e, fino ad oggi, non sono un ente dove c'è un flugue di danaro che scorde e flugue di danaro che intende gestito da persone altamente ritrovate qualificate. E, invece, tutto, abbiamo voluto macchiare, tra virgolette macchiare, i mani di questa, il campo virtuale, voi spieghiamo perché, i mani di questo istituto, con la parte giudizionale di commissione alla trasmissione, trasmissione a dire, nelle mie priene, oggi li tengo io, su buona, che possono dire tanti detrattori, un importantissimo ruolo da avvocato, ma che svolge. Questa è una pressione da oltre 30 anni, purtroppo, perché è incommune. Mi dispiace dire che se non ci fosse stata attenzione in una trasmissione tra, quasi scientifica, come ieri, o un attento giornalista, libero, un colorista libero, come Thomas Madison, se ha fatto l'opinione, questa ricerca non sarebbe venuta a ricarla e la mia, oggi, cliente, siamo in Italia, che ormai amici, avrebbe un'attività, nel, uno stato, quasi, di schieno, all'intervento di un ente, che, quindi, credo, ha una rilevanza, un'intervento, un'importanza elevatissima. E, perché, per una partita, quando mi incontrono amici, gente, parlando di questa questione, andrebbe, inserito a me, in un codice di procedura denaro, cioè, diventa qualsiasi condizionato di procedurità, non ha stato il terremessivo a lei, perché, poi, la magistratura, quindi, rivolga l'attenzione a queste questioni, perché, la ricerca, che, ha vissuto la signora, non nasce oggi, non nasce nel 2008, quando, all'epoca, diventata ingente dell'ufficio provinciale a Tordone, le chiega, che ero già stata ingente dell'ufficio provinciale a Tordone, che era già stata ingente dell'ufficio provinciale a Tordone, che era già stata ingente dell'ufficio provinciale a Tordone, cade dal Ceggio, da Roma, arriva questa tortura, è stata fatta in tante. Qualcuno mi ha messo, mi ha messo a sentire il cliente, che ha detto, ma, Pucci, ce lo vengono, dice, guarda che questa dottoressa, non ha messo un concorso per entrare nella pubblica amministrazione. Da buona funzionante dello Stato, ha chiesto, anche per Paterano, soprattutto per gli interessi della pubblica amministrazione, presso la quattro, per l'italistenza edilizio, ha chiesto ai diretti superiori del Presidente dell'Istituto, poter accedere al punto di columno della vita e professionale della signora, Pucci, che ha chiesto aiutare, che ha chiesto aiutare, e... richiesta di accesso si è stata negata, una prima volta, ripetuta da parte della signora Arturi, Pucci, che ha chiesto aiutare, una nuova domanda che ha avuto una risposta un po', è la signora Arturi, che va costumamente a mangiarsi, a riportezza di un magistrato competente, della quattro dei conti competente nel controllo degli ambienti del PICS. Questo gesto, avendo questa re investito, l'ordine di controllo del PICS, per, su questa reggenda, ha stata fatto scagare le furie, la nuova residente del PICS, al territorio provinciale, in particolare, che ha sanzionato con un semplice di controllo del PICS, di controllo del PICS, ancora oggi, posso dire, con grande amenza, non è finita, perché, all'ultimo di condizioni negativo, del Tribunale di Trollolo, ha perso questa esperienzione di sanzione del PICS, però, c'è stata, al luglio 2017, una sentenza di contraria, che ha colto il ricorso della dottoressa Arturi, che in quella fase lì, era stata finora, assistita in maniera veramente encomiabile, della sottola, la professoressa Susanna Sassbett, ha riportato l'operanza del PICS, per un ambito il problema, e ha rimesso, a Corte d'Atene Peranzaro, senza servo, il relatore del Presidente, di Siliani, una sentenza che ho definito, nel corso di un'intervista di La Scioccia Arturansori, di quattro ore, e un preghiale di Ministra Siliani, perché, sinceramente, la cittadina italiana, che per la corona, Mendes, grazie al Signore, che è stata tratta di cittadini, di cittadini, e dei primi, e dei primi, è formato, anche all'esercizio di queste attività, che oggi sto occupando, e leggere, e, racconto con una sentenza, delle parole, pesante, in confronto di un'amministrazione pubblica, quale il PICS, di un professor, che mi ha fatto porre, una domanda, che ci fa, da chi siamo voi, a me? Questa, ovviamente, è una questione. Purtroppo, gli aspetti, del PICS, un passato, per farvi capire, a cosa si è scritto, il… la Corte d'Avendo, ha dovuto sottolineare, è da considerare l'esistenza del capo e del giudice dipendente così ha un grande funzione giudizia un generale dovere di identità e la terza e con disciplina come statuisce una disposizione di grande Costituzione l'articolo 54 della Costituzione la fidannazione non è tra le ultime case del grave etico con diversa la gestione della Costituzione del grave etico in cui prezzi la gestione della Costituzione voi avete visto questo assurdo rimbalzo di responsabilità siamo partiti dal Presidente Poere il quale dice io non sono svitomato a svolgere alcune attività in Italia ma il Presidente non è arrivata sotto la mia amministrazione rifiuta l'intervista come ci si mette avrebbe potuto fare nella sua corata sarebbe il sede dell'euro di Roma costringe l'operatrice la Iena a vincolo come mi chiedeva la Capitana starà cercando di riscattare l'intervista e il Dottore Gandone che gestisce questa autorità anticorruzione che crea molte carte ma in Italia di sostanza operativamente non le faccio anche perché ma molti potrebbero fare se no il locale modeste sanzioni nei confronti di chi ha migliorato la delimbre anche di interlocutore le amministrazioni che non sono una funzionaria che ignora pressioni di anni perché ovviamente questa vicenda è stata rinunciata in cui l'euro oggi siamo a 2.19 fatto è che soltanto recentemente non nel mai nella vicinanza della scadenza di mandato del Presidente del Presidente della Commissione e nella loro Commissione in Capo Lipser Lipser dice finalmente la dottoressa Infante ovviamente la partita non è finita perché a distanza di qualche giorno la dottoressa Infante si è blocca quando è stato il loro di casa e mi vengono venuti a dito rivolgendoci come avvocato altri che il ex Presidente della Porta Costituzionale è ancora molto molto direttore il 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 borsa che ha fatto una stanza di in un'altra richiesta del potente pubblica da in questo momento sempre al fianco dei Lipser sono curioso di sapere come possa avere il professore di costituzionale scatta come possa riuscire a scatenare il famoso artico 96 della Costituzione è stabilizzata nella pubblica amministrazione santa casa articolare per determinate categorie si è gestita per pubblico concorso questa è stata trovata dalla città di lì sempre per una presa di coscienza da parte dell'undici del titolo di lavoratori per cercare contrastare queste formiche di disesimilazione del proprio purismo all'interno della pubblica amministrazione perché purtroppo voglio dire con grande amarezza la dottoressa ha qui all'interno della dell'Ips tra i colleghi dell'Ips è stata relativamente sull'articostia nella cospica informata o fa un dato di danno alla sua famiglia professionale economico la conseguenza del suo feste con stato di san interno è dovuta al fatto che è stata completamente messa da parte all'interno della serie di lavoro lei è una nemica di dubbi quindi questa è bella disegnazione queste bisogna veramente valorare anche sulle coscienze proprio di questo tecnico è un compito che ognuno di noi deve avere una valorazione interiore che chi non ha deve fare di cercare di raggiungere che senza lo sviluppo della coscienza interiore non si può dare io non so quanto mi posso sottolineare perché volevo soltanto estendere un po' altro termine di una questione che anche a certamente sempre variando il confronto io ritengo che sia un solo non non è stato dato tanto che salta ancora dalla stampa questa vicenda una sentenza epocale così definita da parte del Consiglio di Stato in materia di concorso di diversità in questo caso c'è stata una potessa estra di messina che era riuscita ad avere una sentenza da parte del Consiglio di Stato che riconosceva il diritto di avere il posto di professore della carta del lavoro l'Università di Messina ha continuato a contemperare a questo a questa conoscenza di studenziale alla quarta volta il Consiglio di Stato ha messo da parte di amministrazione e ha imposto imposto letteralmente imposto all'Università di Messina l'assunzione della professoressa la manchia sanitaria che si chiama come professore associata quindi veramente una sentenza che intendo sia da esaminare che c'è grande attenzione perché in pratica mette da parte molto spessa anche quella inerzia e quella indifferenza fatta dalla pubblica in investazione per il fronte di chi è legittimamente a sfida della materia proprio di io mi auguro che con questi conveni qua questi incontri ci siano sempre più frequenti proprio per ci siano soprattutto molto all'anticipazione di giovani sarebbe bellissimo portare questi argomenti e far conoscere questi incendi anche ai peggiori perché tra dalla scuola deve partire dalla crescita dell'uomo del dirigente del professionista e dell'anticipatore pubblico io l'anno scorso ho fondato proprio un blocco proprio a tutela dell'anticipo della Costituzione sinceramente il proprio grande l'area che i nostri nostri giovani non possono le patiria per cercare un costo di lavoro io sono fermamente con cui non mi interessa la materia che ci sono cose da vent'anni che se si rispettasse in maniera corretta l'anticipo senza la Costituzione non ci terrano queste direzioni che non esistono ormai specie del meglio dopo si compilasse l'aiuto del politico poi ci sta questa privatizzazione delle attività che ha portato soltanto un'esplosione della corruzione e quindi domiare con l'article 97 della esclusione vi acquisti vi vuole per il futuro di tutti quanti i nostri giocatori grazie 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 per aver guardato già qua questa inizia adesso passiamo a un altro problema non tema che riguarda il grande continuamento delle discriminazioni da questo intervento per discriminazioni e di giocci e e quindi voglio trovare il professor Luigi Maria Monsi che è il progetto di la cazzo e le cazzo interculturali che sono logiche di adanzato e il interculturale il lavoro dell'assistente sociale di comunità c'è il pubblico di troppo sì grazie Elisabetta grazie dottoressa grazie a noi sono onorato di intervenire oggi in questo convegno appunto sulle discriminazioni anche quando operava l'avvocato Stenzi c'era davvero 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 tanta rabbia perché ci rendiamo conto come nella nostra terra ci sono mari endemici ormai campianiti che sembrano davvero difficile venire a capo e pensavo anche al servizio di questi giorni dell'astro di Gioca Lappia e anche in questo caso ci volevano le iene per capire che c'era qualcosa che non andava e per avviare qualche intervento da parte della procura ora il mio tema riguarda le discriminazioni religiose e discriminazioni culturali appunto mi diceva mi diceva prima la moderatrice mi è stato chiesto di pariare di discriminazione religiosa e in un quarto d'ora ovviamente sarebbe davvero difficile accontrare questo tema io mi occupo di diritto ecclesiastico di diritto religione di diritto canonico e al centro delle nostre ricerche c'è proprio la discriminazione religiosa se non ci fosse un problema di discriminazione non ci sarebbe un discorso sul diritto il discorso sul diritto anche la riflessione sui diritti umani nasce proprio a partire dalla lotta nei confronti delle discriminazioni e su questo la dottrina è d'accordo in particolare alle discriminazioni religiose il primo diritto che si riveli che è il diritto della coscienza individuale contro l'affermazione della contro l'affermazione del potere delle chiese ora e questo anche perché i diritti hanno necessariamente una loro dimensione ugualitaria nel senso che i diritti o vengono riconosciuti a tutti o sono privilegi non sono più diritti o quindi vengono riconosciuti ad una generalità di consorciati e la generalità faccio una battuta è cosa diversa dalla padezza che non c'è niente riferimento ad alcune affermazioni di alcuni parlamentari e da questo punto di vista quindi vediamo come il principio di eguaglianza informa di se l'intero ordinamento costituzionale eguaglianza non significa eguaglianza significa adattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse eguaglianza quindi significa valorizzare la diversità ricostruire il principio di eguaglianza perché è proprio il principio di differenziazione ora quindi il intervento cercherà di sviluppare una riflessione sul diritto interculturale come modello come strumento di lotta alla discriminazione perché chi si occupa di diritto ecclesiastico fa appunto dell'apporto tra il diritto e la religione comunque tra l'ordinamento giuridico e il fenomeno religioso e da un po' di tempo nell'ambito degli studi diritto ecclesiastico si è sviluppato questo nuovo settore di ricerca in particolare lezze e le infezioni dal professor Mario Inca dell'Università di Parma un nuovo settore di ricerca sul diritto interculturale che è cosa diversa dal diritto ecclesiastico e che è diversa anche dal diritto comparato non andiamo a affrontare la comparazione tra diversi sistemi giuridici ma andiamo a capire come all'interno del nostro ordinamento noi possiamo trovare delle soluzioni per valorizzare e tutelare le diversità la necessità appunto e vediamo come in realtà nell'ambito del metodo del diritto interculturale le relazioni umane sono di fondamentale importanza nel senso è necessario sviluppare empatia verso l'altro ora da questo punto di vista quindi l'operatore del diritto come operatore dei servizi sociali deve necessariamente costruire una visione interculturale deve essere un'operatore interculturale ed è legato ovviamente questo tema alle discriminazioni religiose anzi un metodo di contrasto rispetto alle discriminazioni religiose non considera che le religioni sono state continuano ad essere eserbatori di senso per le culture ora in realtà il tema dell'interculturalità non è nuovo se ne parla da gli anni 80 da gli anni 90 il diritto rispetto alle altre scelze sociali è arrivato un po' dopo ma la presenza ancora nel nostro ordinamento di esibili di una legislazione che necessariamente sembra favorire una professione di maggioranza non può questo rappresentare un'area di per non trovare all'interno del nostro ordinamento delle soluzioni delle forme appunto di soluzione dei conflitti sociali ora all'operatore dei servizi sociali da questo punto di vista si chiede di incoraggiare persone di conto e di scambio delle culture di sostenere processi di adeguamento dei servizi contro il cittadino di trasmettere sul territorio modelli comportamentali positivi che favoriscono le inclusione sociale ed essere in grado di gestire le dinamiche e i conflitti interculturali risponde a quelli che sono anche dei principi del codice d'antologico degli assistenti sociali prendiamo ad esempio l'articolo 5 in cui leggiamo come la professione si è fondata sul valore della dignità e sull'unicità di tutte le persone sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie quali libertà guaglianza socialità solidarietà partecipazione nonché sull'affermazione dei principi di giustizia e dell'evità sociale in parola anche dell'unicità che richiama il tema della giornata odierica diversi prendi unici o quella riconosette dove si affreppa che l'assistente sociale consiglia e accoglie ogni persona invece di una domanda di un bisogno di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita di relazione di ambiente intenso sia in senso antropologico culturale che fisico e che cosa vuol dire inserire ogni persona entro il suo contesto di vita di relazione di ambiente se non proprio quello di sviluppare una relazione interculturale e ancora quando si parla del riconoscimento di ogni persona come unica e distinta da altre nella nostra situazione non vi chiami in mente l'idea del principio di differenziazione nell'ambito dell'articolo verde della nostra costituzione che facevamo riferimento a modello che all'inizio che appunto chiede di liberare situazioni diverse in casi diverse in situazioni uguali in modo uguale e poi ancora l'articolo 35 nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da un'adeguata considerazione del contesto culturale di valori identificati lo sottolineano l'ediversità e la molteplicità come una ricchezza da salvavore e dare e di farle contrastando ogni tipo di discriminazione quindi possiamo affermare come la discriminazione emerge quando non si risolve un conflitto sociale e possiamo guardare le vaste tradizioni culturali come un insieme come una sorta di pentolaccia all'interno della quale noi troviamo un insieme di informazioni connesse e disconnesse per i loro e in te per vedere inevitabilmente selezionare e che hanno una loro dimensione normativa hanno una loro dimensione normativa nel senso che oggi i diritti delle religioni quindi l'attitudine a guardare le religioni come ordinamento giuridico ordinamenti giuridici ci ricordano alla dimensione che questi diritti religiosi condizionano la vita del soggetto all'interno della società civile all'interno dell'ordinamento sono spesso i diritti religiosi a dirci se di una cosa o deve o non deve mangiare oppure ancora come può o non può morire e potremmo fare altri esempi ora l'immagine del conflitto è quella evidentemente di un iceberg il viaggio che si vede solo la parte finale ed è evidente di una massa sommessa sotto il perro dell'acqua risolvere il conflitto gestire il conflitto significa quindi guardare sotto l'acqua cercare di capire cosa c'è sotto il perro dell'acqua faccio dei esempi ne potrei fare altri il primo esempio è un esempio che generalmente viene conosciuto in dottrina nell'ambito di chi si occupa di questi temi e che riguarda la vicenda di un assistente sociale canadese che si trova all'interno di un di un appartamento di una famiglia magherpina e che non comprende come mai all'interno di questo appartamento di modeste dimensioni una stanza abbastanza grande viene riservata a sala della preghiera e i bambini non possono niente altro ora per l'assistente sociale questa situazione conferma un carattere autoritario della famiglia magherpina conferma che la famiglia magherpina è disposta a sottomettere o comunque subordinare il benessere dei bambini rispetto all'obbligo della preghiera comunque rispetto all'obbligo rispetto all'obbligo di assolvere dei precetti religiosi non comprende l'assistente sociale però la dimensione simbolica e religiosa di quello spazio e non comprende che quella cultura quella dimensione simbolica e religiosa non per forza deve essere contraria al benessere del bambino e non comprende neanche che mancando una mosca in quella città quella stanza in quell'appartamento rappresenta un luogo pubblico di fondamentale importanza uno spazio pubblico rilevante il secondo esempio invece lo riprendo dalla sentenza della Cassazione del 15 maggio 2017 in cui la corte ha incertato il ricorso di Mignano Sik condannato per corte accusivo di avermi in quanto trovato in possesso del tradizionale dirpan che la polizia locale qualificava come un coltellino ora non tutti siamo portati a qualificare o a tradurre nelle nostre categorie culturali che parlano come un coltellino che il Sik per nell'avventimento di un proprio progetto religioso è obbligato a portare la città un progetto confessionale come i cattolici devono andare a messa la domenica e ricevere l'eucaristia ma non non si valuta che quel dirpan più che un arma è simbolo in quella tradizione religiosa di pace è segno delle lotte della lotta contro il maligno ogni individuo deve portare avanti gli altri ordinamenti mi infesi soprattutto alla Greta Italia al Canada agli Stati giuditi d'America questi problemi che in cui lo sviluppo di una società multiculturale lo hanno vissuto prima di noi il cambiamento di un sistema valoriale culturale il progressivo la progressiva evoluzione di una società terribile e mediciata l'hanno sperimentata prima di noi hanno trovato delle soluzioni in questo caso la parte di Cassazione ha leggettato il ricorso di questi indianosic e ha affermato che la convivenza del soggetto di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbano riconoscere e questo forse può andare bene però la porta poi continua parlando di un obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui ha liberamente scelto di inserirsi e di valutare preventivamente e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano ancora poi la 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 sostiene che la società mondietnica è una necessità ma non può portare alla formazione di erciperani culturali confliggenti a seconda delle etnie che la compongono ostandovi l'unicità del tessuto culturale giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica con un bene da muterare e a transfine poi il divieto del porto di anima e di oggetti anni dell'offenda ora questa sentenza si tratta a problemi di natura interpretativa primo fra tutto che cos'è un valore occidentale quali sono i valori occidentali come qualificare un valore occidentale sappiamo che non esistono valori culturali puri rispetto ad altri sappiamo che la tradizione giuridico occidentale è formata da un insieme di informazioni che prende riferimento anche una segmentazione di tradizioni che si sono nel tempo messe insieme così come tradizioni islamiche così come tutte tradizioni culturali non ci sono tradizioni culturali pure perché perdere il valore occidentale se tutti noi dobbiamo una giulingham soffi il tavolo possiamo dire che attaccare giulingham soffi tavolo degli uffici pubblici è un valore occidentale evidentemente no e poi soprattutto che cosa significa reciproe culturali contingenti e ancora che cos'è un'arma qui non si della distinzione della distinzione macro e non in proprio ma si tratta di vedere come anche in questa lettura c'è una lettura occidentale della questione perché noi vediamo come anche un canio può diventare un'arma e lo abbiamo visto in televisione rispetto anche alle recenti fatti di croca ora anche in questo caso i giudici della Cassazione non guardano sotto quello dell'acqua non danno della questione una natura interculturali il terzo esempio è una situazione accaduta l'anno scorso ad una mia collega che collabora con la Cattola di diritto ecclesiastica di diritto canonico dell'Università di Modena ed è perché canica avvocato durante l'uulienza il giudice Giancarlo Mozzarelli Presidente della seconda sessione del tax dell'Eglise Romagna ha fatto allontanare dall'aula del tribunale questa predicata di avvocato perché indossava il tradizionale per l'islamico che lascia scoperto il voluto ora vediamo il racconto della ragazza sono entrati in aula insieme alla collega e agli avvocati delle parti chiusa la porta il giudice inizia a dire non rivolgendosi a nessuno in particolare si può togliere il pensavo stesse parlando ad uno degli avvocati perché si toglie il cappotto del resto mai che aveva immaginato stesse parlando con me i nostri sguetti si sono incrociati io ho capito ho concluso la frase dicendo il velo lui si se vuole stare in aula tocca il velo ho risposto mi dispiace non tolgo il velo esco e non assisto ai lavori mentre uscivo il giudice agli altri diceva anche perché è nel rispetto delle nostre culture e della libertà in realtà poi lo stesso giudice si è giustificato che in quella ora come in tutte le aure dei tribunali viene affissa l'artico viene affisso l'artico 129 del codice di procedura civile che impone a chi interviene o assiste all'udienza terribute di stare a capo scoperto ma evidentemente il legislatore del codice di procedura civile quando emanava questa norma non pensava al caso e all'avventualità di un avvocato che aveva e ha un diritto culturale a mantenere il capo coperto ora il problema è la mia conclusione il problema ci chiediamo la domanda è come risolvere un conflitto o forse in realtà dobbiamo dire che il conflitto essendo fisiologico alla società non può mai essere risolto ma ad essere solo gestito e per gestire un conflitto sono necessari da si costruisce sulla base di un processo convenzivo di tre fasi prima di tutto il leggendamento e cioè l'operatore deve leggendarsi rispetto alla cultura di riferimento è uno sforzo e si è consapevole che lo sguardo dell'interprete ne fatti non potrà mai essere uno sguardo da nessun luogo come diremo di filosofo negli filosofo del diritto ma deve essere sempre uno sguardo da un altro luogo non possiamo spogliarci del tutto di quelle che sono le nostre categorie culturali sarebbe idealistico ma dobbiamo sforzarci comunque di decentrarci poi l'avventura verso l'altro la disponibilità empatica di conoscere di interi comunicazione con il sistema culturale dell'altro quindi l'importanza è di studiare ordinamenti religione e culture differenti e di inserire questi studi anche nei percorsi di formazione sia per quanto riguarda i servizi sociali sia per quanto riguarda i percorsi di formazione giuridica e infine la direzione o la negoziazione culturale come processo di concostruzione e quindi l'operatore sociale l'operatore del diritto che si propone il dialogo lo scambio in tentativo di cercare un minimo di accordo ora in realtà tutto questo discorso che abbiamo fatto ci porta anche a dire che ci porta anche a dire che in realtà quello che dobbiamo modificare è anche il nostro punto non è solo il nostro punto di vista sul mondo ma è un dobbiamo capire che nelle altre tradizioni culturali e religiose c'è proprio un ragionamento nel caso che riguarda le mie certure ragionamento giuridico differente che sta dalla base perché noi nel nostro mondo occidentale siamo ovviamente portati a pensare secondo le tradizionali categorie della filosofia che è la categoria aristotelica il principio di identità il principio di non contraddizione il principio di vertrezza esclusa se ha non può essere non ha e questo sistema regola il nostro diritto nei nostri sistemi giuridici non possiamo trovare norme conflittuali per il loro se ci sono norme conflittuali c'è qualcosa che non vale c'è un qualcosa di patologico la possibilità di avere comportamenti conflittuali noi spesso la notellizziamo con l'obiezione di coscienza derivano usciuta dalla legge che è più che non un'obiezione è un'obiezione di coscienza perché la legge deve avere che io possa anche comportarmi in maniera diversa rispetto al comportamento generale ora in realtà questa forma di aggiornamento non è una forma di aggiornamento che vale per tutte le tradizioni culturali noi prendiamo quella asiatico prendiamo quella islamica e vediamo che esistono forme di logica non classica forme di logica in cui non per forza un enunciato deve essere o vero o falso ma può essere o falso può essere una via di mezzo ieri anche all'incontro con gli assistenti sociali raccontavo la storiella che spesso noi troviamo in qualche libro del giudice in cui ci sono due parti allora il giudice ad una parte dice hai ragione all'altra parte dice hai ragione all'interno una terza parte e dice al giudice ma non possono avere ragione in Italia e il giudice risponde hai ragione anche tu ora questo fa ridere e noi in qualcosa del genere nei nostri ordinamenti giuridici nei nostri voli di agionare non lo poter con concepia però guardandoci in quelle culture guardandoci in quelle tradizioni lo dobbiamo cercare che concepia non possiamo leggere quelle tradizioni culturali dell'islam ad esempio con le nostre categorie culturali e questo poi è fonte di discriminazione non arriviamo all'interno della religione islamica perché la religione islamica non ha una forma istituzionale che più o meno assomiglia a quelle tradizioni di magia cristiana con cui non comunemente abbiamo a che fare e guardate può semplici strano vedere come poi nella tradizione giuridica islamica quindi dei diritti islamici noi paradossalmente possiamo ritrovare delle forme molto importanti anche di rispetto della coscienza individuale che magari nei nostri ordinamenti non le troviamo comunemente questa cosa ci può essere strana perché comunemente siamo portati a pensare islamo o regolenza islamo o retorismo e nascono da cui ad esempio le cosiddette legge di moschee o antipunto che addirittura prevedono l'obbligo di dover pregare in italiano all'interno della moschee o le difficoltà che hanno adesso stiamo vedendo a Pisa del nuovo sindaco dell'invista di Pisa che sta facendo di tutto per bloccare la costruzione della moschee e potremmo davvero fare altri esempi in calabria e dal nostro punto di vista non siamo nessi negli ora concludo ripetendo anche facciamo anche ieri questo esempio noi siamo spesso ripetiamo questo famoso ritornello della canzone domenica è sempre domenica è una canzone nata tra la fine dei versi e la fine degli anni 50 e noi ripetiamo ancora oggi domenica è sempre domenica e non ci rendiamo conto però come quella domenica è completamente diversa dalla nostra domenica non ci rendiamo conto come la dimensione anche sacrale che si attribuiva alla domenica negli anni 50 non è significata la dimensione che noi oggi attribuiamo alla nostra domenica non ci rendiamo conto di Ebbè Maria Vittoria o di Ebbè dell'Ug Consorti come quella domenica non è più non è per forza sempre domenica vediamo come le esigenze di una società multiculturale ci portano a riconoscere altri giorni di riposo il venerdì il sabato troviamo nella legge anche la possibilità di avere un ricorso sabbatico che per una confessione inizia dal tremonto del venerdì e finisce al tremonto del sabato o per un'altra confessione inizia mezz'ora prima del tremonto del venerdì e finisce mezz'ora dopo il tremonto del sabato abbiamo due sabati più il nostro tradizionale sabato e non ce ne accorgevamo nel nostro ordinamento abbiamo una pluralità di definizioni di sabato nate dalle esigenze di questa società multiculturale scusa appunto sottolineando come la la il riconoscimento della diversità il riconoscimento che non siamo quelli ma siamo tutti diversi deve essere per forza un valore e ormai su questo la dottrina è d'accordo non il avete sicuramente sentito dopo i fatti del 2001 e ancora adesso con questi attentati terroristici viene spesso riperso all'idea del conflitto di civiltà di Huntington in realtà la dottrina è d'accordo che non c'è un conflitto di civiltà è qualcosa che noi comunemente sentiamo leggiamo sui giornali ma non c'è in realtà un conflitto di civiltà l'unica cosa in realtà che forse c'è alle nostre latitudini è un conflitto di ignoranza più che altro e noi questo conflitto di ignoranza lo dobbiamo assolutamente superare possiamo fare finta che sono problemi che non ci riguardano possiamo vivere tranquillamente nelle nostre comunità possiamo perdere l'identità possiamo fare finta che sono problemi lontani da noi ma in realtà il mondo non sta cambiando il mondo è cambiato l'Italia è cambiata e o ci attenziamo o davvero non saperemo come gestire questi conflitti per me sono effettivamente allora devi facciamo grazie adesso prima di continuare facciamo una pausa di 10 minuti e poi riprendiamo un po' la mia la mia la mia psicologia della migrazione e l'esercitamento è una tra la propria forma e la discorga quindi questa è una problematica di una cultura e di anche quindi è un momento di continuo rispetto a quello che ha già illustrato giuridico il questo impulso quindi io ho vedo l'interno però è un che d'oltre tempo allora buongiorno a tutti è la principale di San Berk che è una psicologa clinica e mi sono formata in psicologia e psicologia e migrazioni un anno fa e essenzialmente sono molto contenta di essere qui oggi e ringrazio la dottoressa Morini per aver invitato e sono anche entusiasta di intervenire dopo il dopo il dottor Guzzo perché il mio intervento coglie lo stesso significato coglie gli stessi concetti più che altro ma in ottica chimica sono d'accordo con lui quando parlava del cortellino e della religione sinc proprio per la somiglianza che mi ha dato alla eucaristia per noi in un certo senso come possiamo cercare di eliminare da una determinata religione che è diversa e altra da noi quando è un concetto fondamentale come quello che è appunto l'eucaristia per noi non siamo giudici per poter appunto decidere se una religione è giusta o sbagliata e quando si accetta l'interculturalità l'anticulturalità si deve accettare anche la religione perché fa parte anche essere la cultura e questo è un po' anche quello che nell'introduzione ha detto anche Elisabetta quando diceva che ci sono molte la fone ci sono delle lacune in tutti gli ambiti io mi occupo di salute oggi ma come vedrete la psichiatria si riferisce non solo alla salute non solo alla psicologia non solo alla psichiatria ma anche al diritto all'arcopologia e alla sociologia e non perdo tempo inizio allora la psichiatria è un prodotto molto recente in posto coloniale in cui si confrontano psicologi sociologi antropologi e psichiatri è un concetto che va come dicevo prima oltre la psichiatria perché non neanche la psicologia occidentale ho preferito inserire questo termine perché non chi è la relazione duale che spesso riscontriamo nella terapia classica quella che pensiamo noi lo psicologo con l'altro in fronte a noi ma abbraccia una serie di discipline quindi anche l'antropologia il pensiero giuridico il diritto dei popoli e come vedremo anche successivamente ci deve essere un'equipe formata essenziale è anche la figura del mediatore culturale quindi non c'è questa relazione faccia faccia ma c'è anche una collaborazione con l'equipe io ho inserito l'etimologia del termine perché proprio per farvi capire che la psichiatria si riferisce alla cura di ciò che trascende la patologia in senso organico è riferita al popolo ma al popolo in senso di cultura appunto e ciò che vuole dare attenzione nella psichiatria si compatizza appunto su questa relazione tra la psiche e la cultura psiche e cultura cultura intesa come contesto socioculturale che forma la psiche perché è diciamo scontato pensare ok io sono occidentale vivo in Italia e ho i miei valori principi come si diceva prima i valori ma cosa sono i valori occidentali ma la persona che nasce in Nigeria può essere può pensare ai stessi valori ai nostri stessi valori oppure può formare un pensiero che abbia delle assonanze con i nostri quindi la persona clinico non ha l'obiettivo sicuramente di ridurre la persona alla cultura che la persona è anche altro però cercando di banalizzare la sua cultura e il suo contesto socioculturale si comprende appunto me quella complessità del individuo i grandi che hanno iniziato a lavorare con l'etro-psichiatria sono stati Devere e Nathan Devere ha coniato proprio il termine di etro-psichiatria uno psicoanalista antropologo ungherese mentre Nathan uno psicoanalista francese afferma proprio che la cultura è una struttura specifica di origine esterna che contiene come possibile il funzionamento dell'apparato psico in altre parole la cultura è il fondamento strutturale strutturante dello psichismo non appunto quello che dicevamo prima ecco quindi penso che sia proprio il senso anche della giornale in sé il nostro mondo di trasformazione siamo siamo diretti da un bel po' di anni in Italia siamo un po' indietro direi al fenomeno della globalizzazione quindi ci sono differenti nazioni culturali e culture e come pensare quindi che i pazienti in senso clinico sono portatori di identità multiple identità multiple che hanno un solo modo specifico di pensare alla malattia alla sofferenza alla morte quindi in sintesi perché sicuramente il mio intervento oggi vuole essere uno spunto per il letter che ci potrebbero veramente avere per discutere della disciplina in sé però per una medicina occidentale la malattia è universale è una e questo è dato dalla scienza quindi una meningite tubercolotica e la stessa va a Mago e a Los Angeles ma la narrazione del paziente è sempre specifica è particolare è eccezionale un esempio in un colloquio con un paziente di origine mariana può riconoscere che la sua malattia sia causata dal virus dell'HQ o dal pacifico della tubercolosi e ritenere ciononostante che si tratti del placermato di un'azione di stregoneria fatta contro di voi dunque è importante capire il senso che il paziente dà a quella patologia e quindi da professionisti della salute ma non solo direi è utile avvicinarsi a questi pazienti era il strano modo di narrare la realtà in generale non solo la patologia la sofferenza ma anche sul pagare dei valori e credenze di cui fa parte anche la religione quindi come lavorare in ambito clinico con culture altre sicuramente è importante come dicevo prima il lavoro di tutto e il setting deve essere specifico come dicevo anche poco anzi la relazione tra terapeuta ma anche medico voglio generalizzare non deve essere duale ma ci deve essere un un'equip e anche uno specifico setting che ora andremo a vedere allora all'equip sicuramente c'è bisogno di formazione questa formazione è una clinica di tutti i professionisti che fanno parte all'equip molto spesso si dà per scontato ok io sono medico tanto so come devo durare sono psicologo io so cos'è la depressione so cos'è l'ansia ma siamo sicuri che tutti i pazienti del mondo abbiano la depressione come ne intendiamo noi in occidente poi è importante il mediatore culturale che non deve essere un interprete o un traduttore deve essere un mediatore culturale perché appunto ci deve portare all'interno della cultura del paziente che abbiamo di fronte dopo illustrerò un caso in cui è proprio fondamentale la figura per arrivare al nocciolo del problema della questione il rapporto di collaborazione tra l'equip indubbiamente e la supervisione per evitare situazioni di impasse terapeutiche oppure per evitare i fenomeni di burnout e per appunto fare il punto della situazione in cui ci si riscontrano problematiche all'interno dei percorsi allora nel setting molto spesso ci si ritrova a parlare del paziente all'interno dell'equip quando lui non c'è quindi in sua assenza ma interpellando l'altro però si capisce realmente di cosa l'altro ha bisogno quindi non escludendolo e spieghiamo spieghiamo che ruolo abbiamo perché come si diceva prima la cultura i modi differenti di pensare in molte in molti paesi dell'Africa sud-sariana lo psicologo io direi di tutta l'Africa forse in cui lo psicologo non esiste c'è lo psicologo ma c'è il guaritore c'è lo stregone c'è il muo i mari ci sono figure che possono essere pensate da noi occidentali come equivalenti dello psicologo loro non sanno chi è lo psicologo e chi si trovano di fronte quindi noi dobbiamo cercare di fargli capire chi siamo per installare anche un certo rapporto di fiducia con lui la stessa cosa è il mediatore perché in molti cioè io ho avuto esperienze in gentile e ho notato che molti ospiti instaurano un rapporto quasi morboso con il mediatore ma perché? perché parlano la loro stessa lingua e di lingua intendo il dialetto linguistico non intendo il francese o l'inglese perché trovarsi di fronte a una persona che parla lo stesso dialetto del tuo da nigeriano o maliano o qualsiasi altra regione o stato porta il paziente a sentirsi al sicuro sentirsi a casa quindi spieghiamo chi è il mediatore che ruolo ha e chi è lo psicologo quindi da avere anche una sorta di rapporto di fiducia con entrambi le figure e comunque ci possono essere anche altre figure di figure successivamente di fare l'eccesso di cure questo che specifico anche per i centri d'accoglienza perché molte volte si si cerca di prendersi cura dell'ospite in modo morboso infantilizzando poi però la persona in sé perché se noi vogliamo attuali progetti di autonomia di responsabilizzazione dobbiamo anche lasciarli fare quindi ah ok vogliere più informazioni possibili chiedere informazioni non solo all'ospite non solo al paziente non solo alla persona che proviene da un'altra cultura ma far partecipare anche i familiari gli amici i conoscenti per capire comunque di più un atteggiamento non soddicante per insomma che quello sia scontato ma molto importante e poi non cadere nella trattura dell'empattiva l'empattiva anche prima si è detto che bisogna essere empatici ed è vero perché da psicologo sicuramente l'empatia è una cosa fondamentale un concetto fondamentale ed è quella capacità di mettersi nei banni dell'altro identificandosi nel suo mondo soggettivo nel contesto di un'accettazione autentica che è l'utilizante possibilità di riconoscere nel vissuto altrui qualcosa che si è già sperimentato una forma di immedesimazione ma all'interno dell'etropsichiatria si preferisce parlare di un altro concetto che sarebbe esotopia se io cerco di immedesimarmi in quel paziente in quell'individuo come faccio immedesimarmi se non ho la sua stessa cultura i suoi stessi valori la sua stessa religione è molto difficile potersi immedesimare è importante il fattore al parco ma io penso sia molto più importante accettare l'altro in quanto diverso da sempre perché è vero siamo diversi ma si è diversi anche in Italia stessa nord sud ci sono contesti socioculturali differenti e per questo la differenza è condizione necessaria alla comprensione quella complessità che appunto citavo prima ora vi voglio illustrare un caso per appunto riassumere tutto ciò che ho spiegato qui arriva al centro di trattamento del dolore dove è possibile avere una consultazione transculturale inviata dall'orologo che prevede il suo collega per telefono non controllo più la situazione il signore fa solo di testa sua arriva sempre in ritardo alle visite rifiuta tutti i nostri consigli e non prende più la medicina morirà ma sembra che non gli importi nulla nella corrispondenza che vi attenziamo a un cospicuo dossier medico lo specialista non nasconde la sua disparizione di fronte al paziente che definisce ostile e recargetante ad ogni tipo di trattamento malgrado durante i dolori agli altri inferiori che nessuno nonostante tutto riesce a comprendere Gibrilla ha 58 anni e Mariam in Italia dall'età di 23 anni a 33 anni gli viene diagnosticata una medicina tubercolotica gravissima con numerose complicazioni neurologiche è parzialmente varaggizzato agli altri inferiori usa le stampelle 8 anni dopo ha una gran mente di loro parte insedi adotelle per lunghi mesi è preso in carico con una riediturazione funzionale migliora ma poco dopo delle infezioni urinali di origine neurologica che grava la sua situazione la dottoressa responsabile della valutazione del trattamento del dolore segue Gibrilla da vari inizi da tempo percepisce la sorda senza mai arrivare a contenderla i dolori localizzati agli altri inferiori peraltro inusuali non c'è solito riesce a sarmare arriva in consultazione interdutturale il suo problema è complicato sono molti anni che soffre senza che si riesca a far risolvere può darsi che non abbiamo capito tutto io stessa ho bisogno dell'aiuto dei colleghi per capire cosa succede inoltre potrà se lo vuole parlare nella sua lingua può darsi che questo succede qui Gibrilla ha accettato la proposta del medico si inizia la consultazione con la sostanziosa cartella clinica che il medico tiene sotto la chimica si ripercorre la storia clinica e anche il paziente è data la possibilità di intervenire sui punti rimasti oscuri si torna 30 anni indietro a quando G.P. 23enne arriva dal mare in Italia per raggiungere uno dei fratelli che gli ha trovato lavoro come male in magazziniere si adatta subito poi nella sua lingua madre racconta improvvisamente al lavoro ho avuto prendo la sera ho chiesto a mia moglie di scaldarmi aveva la febbre alta mi ha fatto dei massaggi in vano ho tremato tutta la notte sono stato ritrovato l'emergenza durante la consultazione il medico continua con la storia che dira il mediatore o il medica vi dirò cosa ho capito e cercherò poi di tradurre a giorni poi vi pregherà un atto si è chiesto di cosa soffriva ed è stato durato ma questa malattia ha avuto comunque delle nozze per esempio nel suo corpo che ha raggiunto in un certo modo la dottore si interna per il mediatore nel sistema del poso il mediatore riprende si ma dalle nostre parti non è il sistema nervoso per noi è il corpo gli dirò comunque che c'è stata una reazione nel suo corpo e che questo ha causato tutte le difficoltà qui torna il concetto che dicevo prima per loro non esiste il sistema nervoso se ci si ammala ci si ammala nel corpo quindi il mediatore ha dovuto tradurre a Gibril tu non sei guarito totalmente se la malattia era cessata c'erano state delle conseguenze in altri apparati in ogni caso lui è dovuto tradurre nella lingua madre che la malattia essenzialmente aveva dovuto delle conseguenze ma che non si è riuscito a far capire c'è proprio una incomprensa tra intendere noi la malattia e intendere loro la malattia il medico commenta in effetti la medicina l'ha salvato ma non è riuscita a seguire le pubblicazioni in questa situazione di mediazione il medico che accetta all'interno di un rapporto in più con i colleghi di commentare il dossier del paziente e di interrogarsi sulle diagnosi e non direttamente i terapeutici rompe la classica dinamica della relazione uguale e si ispire in una dinamica di scambi quindi allora c'è il recitore a termine del dibattito dopo aver denunciato l'assercitato e l'opera più di terapeutici si può restituire il secondo medico che il paziente può in caso fare un uomo ci si sofferma in particolare che quando si dice che il paziente è guarito dalla tubercolosi il tale annunciato non si può trovare nella lingua madre del paziente dove guarire allude sempre una guarigione completa dell'individuo e un ripristino delle sostituzioni la polera di Kipri è nata lì all'origine del suo mare questo emerge dalla consultazione da quel momento senza apporto persone mediche e pazienti sono rimasti su due sponde separate e parallele della prima a questo punto quando c'è uno scambio e il senso è condiviso piano piano emerge anche la storia familiare del paziente dove la tristezza è dedicata profondamente quando 25 anni più tardi l'urologo suggerisce un intervento chirurgico alla recicla per evitare le infezioni urinarie esistesse un altro malinteso Kipri voleva far cessare la sporcizia dovuta alle perdite quotidiane dopo le operazioni non solo non cessano le perdite ma è diventata più potente la seconda mano lo lascia è davvero troppo Kipri si prende in una depressione profonda si riapri il diritto originario e si riattiva la polera riatraversando queste diverse letture della legislazione Kipri si riconosce questa interpretazione della sua polera e lascia emergere una tristezza alla pola legata a questo che è la prima che lo roba giorni e notte da quando a causa della sporcizia non può più pregare come presentarsi davanti a Dio quando scorda un euro ecco la questione fondamentale che Kipri vuole i medici e il mediatore a questo punto si apre il lavoro di ricostruzione dialogica sui rapporti con il suo gruppo familiare al paese si cerca di scorrare il significato del suo male all'interno della sua struttura comunitaria emergono i tentativi di cura effettuati dalla sua famiglia all'origine e il rifiuto di questi da parte del paziente che si è isolato dalla famiglia e dalle cure proposte appoggiando semplicamente la cura del medico occidentale continuando il lavoro di ricostruzione e interpretazione diverse qualmente possibili del suo male operazione che si dà in interno dispositivo interrogante di questo tipo emerge la preoccupazione del paziente sui propri figli e nipoti come se il domani potesse propagarsi è il momento di lavorare sulla rivestitura del lacerato territorio familiare per riavitare l'alleanza della propria idroca quindi essenzialmente questo è stato un caso che ha poi riassunto tutti i concetti che avevo precedentemente sposto e ci sono fattori culturali ma anche appunto religiosi come abbiamo visto prima lui si sentiva in puro il suo corpo era in puro davanti a Dio come poteva pregare da un uomo sul mano e allora ci si ci si deve rendere conto che anche noi da professionisti dobbiamo essere formati in tal senso per riuscire a comprare tutto ciò che l'individuo porta in terapia o in variati contesti che sia l'ospedale che sia appunto un centro di accoglienza una terapia individuale familiare insomma bisogna aprirsi come si diceva unico e ho voluto concludere con questa frase di dello psicologo Berndon Rogers che un po' può riassumere il significato che ho voluto dare a questo è così facile curarsi degli altri per ciò che io penso che sia o vorrei che fossero o sento che dovrebbero essere curarsi di una persona per quello che è lasciando cadere le mie aspettative di ciò che essa dovrebbe essere per me lasciando cadere le stelle di modificare questa persona in armonia con le mie esigenze è l'aglio più difficile ma anche la più maturante verso una relazione intima più soddisfacente grazie 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 vorrei purtroppo devo fare una piccola parazione su proprio degli interventi perché il prossimo host non può rimanere per tanto tempo quindi dobbiamo necessariamente anticipare ed è la consigliere di libertà è colui che vigila il rispetto e l'applicazione del principio di non discriminazione e l'attruzione delle maggior opportunità insomma e adesso la dottoressa Moranoci scriva un po' quella che è quella che è l'autorativa di attivarci buongiorno a tutti grazie grazie a Maria grazie a voi per avermi votato qui grazie soprattutto per il suo intervento per il suo lavoro egregio con l'associazione Star con la quale lavoriamo insieme da anni quindi grazie grazie della provincia Sergio Brava che è sempre come dire attento ai temi delle opportunità quindi per me quei qualità di consiglieri in verità non avrò potete per me spegnerelo io non faccio slide ne vado a braccio come dire non proietterò nulla e sarò anche relativamente veloce e più di starò insomma non vi voglio dettiare la nostra moderatrice come dire ha detto io parlerò di normativa tendenzialmente non amo io sono avvocata insomma insegno anche all'università di dito però non amo snonciolare salvo l'esempio io sono istituzionale non amo snonciolare dalle cive e o normative laddove non spettamente necessario mi piace fare con voi una riflessione questo è un incontro importante voluto da noi all'ufficio internazionale di discriminazioni parliamo di discriminazioni e combattiamo le discriminazioni ciascuno che è il proprio capo ciascuno nel proprio ambito ciascuno nel proprio quotidiano vorrei dire quindi mi piace io ho un po' di lavoro come è stato detto insomma la consigliera di parità si occupa 160 gradi di pari opportunità ma in particolare di combattere discriminazioni nell'accesso al proprio del lavoro vero nel mondo dell'amore bene qualche giorno a fare vi attento su queste poche cose insomma poche riflessioni che abbiamo dovuto svolgere insieme e poi mi sono venuto due film sarà che sono stati proiettati anche diregente insomma in television sono film entrambi o parecchemente degli anni 80 però che mi sono venuto finalmente per due visioni del mondo assolutamente differenti che uno era baby boom chi se lo ricorda era una donna in carriera della mia vita nella quale viene brutalmente detto questo film degli anni 80 arriva una bambina insomma non è sua la bambina insomma arriva una bambina il suo capo brutalmente gli dice becca devi scegliere o il lavoro o i figli mi spiagge non si può del tutto nella vita e l'altro mi è venuto in mente è stato Zalone con Zalone può vado dove invece al vertice del ministero direttore generale la donna un'attivissima quindi anche questo come dire e lui peraltro va nel film va nelle democrazie notiche se non ricordo male mai di Svezia poi in Colpeggio e cosa non c'era insomma comunque e si vede la trasformazione di un uomo assolutamente pieno in pregiudizi come invece la cultura quindi vivere in un ambiente differente può modificare anche il pregiudizio perché mi sono veramente in mente stavo ripetendo su cosa di dire che si entrano particolarmente indicativi indicativi di che cosa anzitutto di un cambiamento di un'epoca indubbiamente viva Dio direi io la condizione della donna non è più quella diciamo degli anni 60 70 io sono nata la metà non ho vissuto il feminismo però l'ho studiato e ringrazio quelle donne che hanno effettuato quelle battaglie che hanno consentito adesso a noi io direi anche di esprimersi nella nostra pubblicità nella nostra dignità che ci hanno consentito di fare veramente a determinati traguardi ai quali molto spesso all'epoca non si pensava neanche soprattutto alle più giovani ricordiamoci che fino al 46 non si votava cioè la donna non si votava quindi non stiamo parlando dell'epoca di Gesù ma stiamo parlando dell'epoca romana o del 1700 no stiamo parlando di ete di abanchieri al massimo va un teo e e ma sarà abanchieri quindi dico immensi passi avanti da questo punto di vista e dico ma la situazione del Rosea no io non la vedo ho fatto Rosea che non la vedo io ma non la vedono i rapporti annuali i report annuali delle consigliere di parità non vi vede il World Economic Forum con il Global Gender Gap che viene il report che viene effettuato ogni anno non è rossia la situazione non è rossia perché vedete nell'accesso al mondo del lavoro sembrerebbe una una situazione relativamente rossia per le donne perché dico questo perché le donne in massa una cosa le donne studiano il Dio studiano la Costituzione dice che agente devono essere aiutate da uno stato peraltro a diciamo superare eventuali ostacoli e impediscono loro l'adeguata formazione quindi le donne studiano da l'agente universitario mi dico che le donne tendenzialmente rendono meglio non perché siano più intelligenti per esempio non mi piacciono queste sciocche contrapposizioni non sono un medico non voglio dire il cervello del mondo il cervello della donna però sicuramente l'intelligenza è ovunque ed è sparsa in modo uguale probabilmente si impegnano di più le donne quindi hanno magari voti più alti si laureano prima si laureano con voti ottimi diciamo anche superiori beh l'ingresso al mondo del lavoro però non ci dice esattamente la stessa cosa l'ingresso al mondo del lavoro per esempio ci dice che le donne entrano magari nel mondo del lavoro tipo soprattutto nei concorsi pubblici non entriamo spesso quando ho detto queste cose in contesti diciamo in altri contesti mi è stato detto ma si sa che fanno concorsi pubblici non voglio andare non stanno indietro lo so io come lo sapete voi ma io voglio parlare del concorso pubblico onesto diciamo del concorso pubblico diciamo meritocattico è anche la meritocrazia molti si riempiono la bocca alcuni proprio non sanno veramente di cosa si tratta ma comunque diciamo su questo aspetto dico soprattutto nel concorso pubblici tendenzialmente le donne arrivano quindi vincono il concorso qual è il problema? che è ovvero anche nel privato tendenzialmente nel privato le donne magari vengono assunte qual è il problema? il problema è il problema che viene chiamato la metafora dell'invito cioè le donne entrano in massa nel mondo del lavoro però l'invito come prima e l'altro poi va a restringersi e dove si restringe? nell'avanzare il cavo o così potrebbero anche soffitto di cristallo cioè le donne hanno difficoltà a raffreddere posizioni di vertice entrano in azienda ma restano i detti più bassi entrano in una pubblica amministrazione ma difficilmente diventano direttore generale perché è questo? vedete anche questo non lo dico io dicono studiare all'università c'è stato un bello studio di un anno di due anni fa soprattutto male l'università di Trieste diciamo all'inizio non lo condiviso particolarmente proprio riflettendoci forse è vero sono affrontate anche con amici diciamo amici ed amiche anche come si dice psicologi e forse che non è vero diciamo questo lo riscontriamo nelle aziende soprattutto nel privato mi è stato leggevo che la pubblicazione è d'occhio d'altra parte la società non è friendly si dice o non friendly cioè non è amichevole verso le donne ed è inutile negarlo in Italia non esiste proprio quella perché io che ho parlato di Zalome mi è venuto in mente Guopalo cioè voi ve lo ricordate la gestione quindi quella che c'era in una società come la come la europea come le democrazie notiche c'è quella che è verratissima alcuni dicono forse troppo elevato tale per cui insomma la persona si stucida perché magari non ha nulla da pensare non ha più problemi non voglio entrare in questo sicuramente c'è un qualcosa che funziona mentre in Italia no cioè io mi occupo di fare opportunità oramai ma oltre a 12 anni insomma andiamo ripetendo le stesse cose non esistono assidimido e non ci sono legislazioni che tendano ci sono state delle modifiche legislative negli ultimi anni magari diciamo come dire tendenzialmente più a favore delle donne ma in sostanza perché tu metti per legge la possibilità del congetto parentale ma non lo imponi in alcuni casi oppure lo lascia a descrizione per la donna insomma sono degli esempi per dirvi che come dire la legislazione è importante la legislazione c'è qui c'è qui c'è un telefono che è proprio qua smetterà o non smetterà probabilmente c'è la legislazione in Italia sicuramente c'è e direi che è anche come dire non particolarmente adegrata anzi tutt'altro cioè in generale non sono nel punto del lavoro ma sulle tematiche delle varie opportunità la legislazione italiana non è adegrata cioè a differenza di quanto si possa pensare quello che non va è l'applicazione della legge in Italia cioè il concetto è questo se io dico manca il guerra in Italia non è che manca la legislazione mi posso assicurare da un attivista d'avvocato la legge c'è il concetto è che non viene applicata in Italia e non è solo questo non sono un po' esempio sono tanti gli esempi in Italia cioè c'è una disparità violentica che vuol dire volutamente violentica fra una parità legislativa ed una disparità sostanziale in Italia e questa è la cosa più avvennante perché laddove non ci fosse la legislazione come dire tra i momenti potremmo anche più combattere la cosa più è combattere contro gli stereotipi e ne ho proprio ma che si addirano gli stereotipi cioè è proprio che l'idea fra parità legale parità di fatto parità sostanziale che si addirano gli stereotipi di genere piuttosto che gli stereotipi in generale e di lì diventano veramente barriere visibili a volte invisibili alle altre ma sicuramente barriere alla crescita barriere all'accesso al mondo del lavoro barriere alla realizzazione dicevo di questo studio tornando a quello studio le motivazioni dicevo erano complici se le donne non riuscivano a sfondare nel mondo del lavoro quando uno scontante non era avuto raggiungere le posizioni di vertice dicevo appunto prima questa società che non è come il ferme e questo lo sappiamo purtroppo lo sappiamo di dire che non facciamo nulla cioè è una cosa che veramente mi scuote ma mi scuote come cittadino italiano cittadina italiana cioè noi continuiamo a portare gli stessi politici nord, sud, destra, genito nord e ovest, sinistra e sud insomma non mi interessa non è un discorso politico la mia storia personale dice che io ho sempre interpretato le pari opportunità di sopra dei colori politici e ne sono vieni dico purtroppo però continuiamo a portare sempre questi politici che siano il comune che siano la provincia che siano la regione che siano il Parlamento probabilmente questi non ci hanno aiutato da questo punto di vista ma in noi evidentemente sta bene così mi interessa cioè io non dico andare in piazza tipo in gileggiate però le donne forse qualcosa la dovremmo fare insomma forse un po' la voce la dovremmo usare poi insomma soprattutto in determinati periodi in cui la come dire si arpeggia una natura a volte anti anti-feminista secondo me comunque il femminile non femminista non mi piace perché ripeto il femminismo io non l'ho vissuto ma lo studiato e lo ringrazio però è una fase storica gestata sicuramente importantissima ma finita per questo dico io parlerei di femminile e detesto quando si vede diciamo l'avanzamento della donna nel mondo del lavoro o sul punto della società come qualcosa che ha uno scontro con l'uomo io non ho mai visto uno scontro con l'uomo c'è sempre ancora la cosa più stupida che si possa pensare cioè se si avanza che la ricordate è la vestugine romana si avanza insieme cioè se un esercito può avanzare avanza soltanto se è contato se è coerese gli uomini e purtroppo non abbiamo i paesi in niente a questo punto di vista ultimamente c'è stata la votazione che avrete sentita in consiglio regionale scusate se io vado meglio vado meglio che abbraccio non ho mai quindi segno appunto due cose e poi vado abbraccio la votazione in consiglio regionale per la legge sulla doppia preferenza di genere e i simpatici maschietti insomma tutti tranne l'amorevole scurgo insomma gli altri insomma i maschi in consiglio regionale che cosa fanno decidono non decidere perché perché non vogliono neanche farsi vedere in faccia da chi che hanno appresi io l'unica cosa che aveva auspicato il consul che aveva organizzato in provincia che non sarebbe questo che all'unico consigli regionali abbiano il coraggio di farsi vedere in faccia e di dire io sono contrario alla doppia preferenza di genere per carità ci sta legittimo ci saranno un sacco di per calabresi che saranno contrario alla legge sulla doppia preferenza di genere e lui era presente però il coraggio di dirlo no non hanno neanche questo coraggio si c'erano dietro l'invii assurdi inutili lavoro di una delle stesse ma qui qua il discorso perché insomma questo forse i calabresi se lo dovrebbero ricordare invece non ce lo proviamo continueremo a votare per il nonno e il fratello e vabbè a questo punto ce li vediamo perché evidentemente i ce si presentano ma anche qui destra, sinistra nord, sud centro, ovest tutti uguali cioè il consiglio che noi è stato assolutamente unanime tristemente unanime questo tristemente unanime direi maggioranza che ho consulzionale ma andiamo a noi dicevo concludo sull'altro profilo sul quale volevo soffermarmi da una parte questo quello che manca lo diciamo da anni e nessuno lo propone e le donne non hanno la proposta che ci sia Silvido io ne parlo da vent'anni ma gli a Silvido per esempio vengono creati anche i venti di cui addirittura che comunque ho avuto un punto che ho avanzato nel privato tipo l'università c'è l'assilo unito un augurato lettore tagliabinasti che costano otto posti cioè vi volete dire un asilo unito di otto posti universitaria 8000 una quadra diciamo queste cose italiane anche in questo però anche in questo le donne non alziamo la voce quindi evidentemente ci sta sempre così io dico che insomma vi dà fastidio il tale la sbagliata perché sono tipicamente caprese noi siamo sempre quelli che ci viaggiamo addosso stiamo la colpa a governo ministra quella prendiamocela un pochino noi probabilmente noi sappiamo così se non alziamo la voce se non protestiamo se non facciamo qualcosa viene bene di sappiamo così dicevo invece il secondo punto che questo rapporto questo studio dell'università di Trieste mi ha compito era forse se le donne non avanzano è anche una motivazione interna alle donne io quando volessi dico no non sono assolutamente raccomando invece leggendo forse si possa voler dire questo studio che non che le donne si considerino si considerino noi inferiori agli uomini lasciamo stare un tocco qui il tasto che Maria Grazia conosce molto bene della autostima completamente versa da una nonna vittima di violenza questo è un altro discorso non ci entro lì davvero è reggeo il vostro lavoro con i psicologi gli assistenti sociali e i geni di attiviolenza per far recuperare un'autostima che esistente io parlo di casi fisiologici e normatologici tendenzialmente soprattutto anche nelle giovani generazioni io non vedo una donna che si sente inferiore il problema qual è? che purtroppo però la donna ha una ingenuità diceva questo record ha un'ingenuità ovvero quella di ritenere ingenuamente che il suo valore la porterà avanti cioè il suo valore inevitabilmente sarà riconosciuto dal suo capo quindi diceva questo record la donna non negozia con il suo capo gli uomini sono più abituali a andare al capo a dire bello qua io lavoro da x mesi da x anni voglio un momento retributivo mi spettano le medie in più mi spettano la donna tendenzialmente non lo fa non lo fa perché aspetta se ho lavorato bene sono stata brava sono stata me lo me lo riconosceranno no ragazzi questo tendenzialmente non è grave altra cosa diciamo per cui la donna dicevano si tradicolente autoescrudeva e questo purtroppo davvero nei miei anni di varie opportunità perché sono molte 12 anni che me li ho conosciuto tantissime persone disvariate in tutti i paesi della provincia di Chiaranzaro questa purtroppo è radicata davvero di etnosteronico credetemi donne più anziane e donne più giovani io l'ho rivisto trasversalmente nelle varie generazioni tristemente nelle donne c'è una specie di rassegnazione e qui mi ha detto ma sai il mio marito lavora 12 ore al giorno e finché non ho avuto figli va bene ma quando ho avuto figli necessariamente ho dovuto scegliere no ragazzi non bisogna scegliere è intollerabile io non tollero che ancora nel mio livello di giornale qualcuno deve scegliere tra lavoro e famiglia mi è intollerabile non lo sopporto se poteva accadere davvero nel secolo scorso ma oggi mi è intollerabile perché non ancora oggi debba e invece purtroppo non richiede non è in trattura normale guardate prendetemi è liberamente lo stereotipo di genere quanto ha attallato io voglio dire attallato proprio con un carletto è intanto anche nella mentalità femminile e lì dovremmo agire cioè la donna lo accetta quasi come una cosa non dico normale certo ne è un po' raffistata però è così non è così non è affatto così cioè si deve e si può cambiare perché vedete e lì davvero mi concludo non mi tegno oltre la differenza fra disuguaglianza fra differenza passate il termine la ripetizione la differenza fra il termine differenza e il termine disuguaglianza è netta nonostante molti non lo comprendano che i termini sono molto diversi guardate che la differenza è qualcosa di biologico quindi di giusto di naturale io rivendico la mia differenza di donna io non mi voglio omologare ad un uomo quando voglio essere una donna realizzata nel mio lavoro nelle mie istituzioni dovunque mi voglio organizzare accidendo il mio essere donna cioè non sopporto la mascolinizzazione della donna mentre meno quando alcune ragazze sapete quando spessissimo nelle scuole ah io no io mi sento esattamente come un uomo quando esco con un ragazzo favo io la pizza ragazzi più non è questa non è questa la guaglianza io ci tengo adesso esco con un uomo voglio che mi bagli certamente perché non ho la piaggiera della pizza ringraziate il mio però ci tengo come omaggio altra piccoletta alla mia femminilità che mi offre la pizza non è questa la differenza ci tengo anche se mi apra la porta se me la deve aprire ci tengo lo sanno questi uomini proprio non lo sanno vedere sono poverini non lo sanno però viva Dio quello che lo sanno insomma è un viaggere ancora vederli quindi ripeto ci tengo a realizzarmi ma certamente non a mascolizzarmi ci tengo a realizzarmi nella mia femminilità però il problema qual è? che è la differenza fra di fare questa è la differenza ed è biologica tutto è giusta e non va eliminata la differenza io ovviamente ho fatto un progetto concreto molto bello faremo quest'anno la parte finale durando due anni in una scuola pilota di Catanzaro e lui ho chiamato così proprio parità nella diversità a me piace questo cioè io ritengo che deve essere raggiunta alla parità ma nella valorizzazione delle diversità come nell'appiattimento delle diversità le diversità devono essere cioè la diversità è un valore certamente quando però è congiunta alla parità e lì si instaura la differenza tra i termini le differenze e disuguaglianza vedete la disuguaglianza vi sto dicendo i concetti su cui i filosofi si sono prodotti con cose cose io che vi banalizzo ma vi assicuro che diciamo sto restringendo diciamo che sono queste le differenze la disuguaglianza invece è legata alla diversa distribuzione del potere quando rigo del potere è il tempo del potere economico del potere politico del potere sociale dunque ha una dimensione etica una dimensione non naturale quindi non è giustificata la disuguaglianza spero di essere stata chiara la differenza non va eliminata quello che va eliminato è la disuguaglianza che è qualcosa di sovrastrutturale diciamo strutture e sovrastrutture di filosofo una cosa che è strutturale non va eliminata non può essere eliminata e non deve essere eliminata ciò che va eliminato è la sovrastruttura questo è sì ne parliamo da anni se esiste ancora una probabilmente non l'abbiamo eliminata diciamo anzi sicuramente non l'abbiamo eliminata e questo di la vista vedete io è davvero che concludo quello che non sopporto nonostante il bene io mi pare di profondità da oltre 15 anni è la retorica dell'esserci in quanto donna a tutti i posti ah io devo esserci in quanto donna devo arrivare in quanto donna devo arrivare no a me non piace questa genere di retorica io voglio esserci nei posti di potere quando dico potere dipende economico politico sociale qualsiasi perché valgo perché sono una donna intelligente volta preparata capace creanda così come vorrebbero gli uomini ma per tanto intelligenti capaci in gamba la cosa che veramente mi scuote non la sopporto e la vado dicendo ma purtroppo non cambia e che fin trompo spesso ancora oggi ad una donna di grandissimo valore bella preferito un uomo di grandissima mediocrità grazie grazie a te grazie a te e complimenti per le iniziative che sempre a te che si è attraverso una donna in generale quindi dei rapporti con gli uomini in particolare loro quindi un tema che è un punto e un'osservazione che della mano di chi è venuta come dice in un video ho voluto si sente la mia voce con un video perché credo che a volte le immagini siano più efficaci delle parole e mi riferisco la bellissima questa storia che ho fatto con qui ma era forse ti diretti sicuramente perché quando dobbiamo fare dobbiamo dare un'immagine a una donna forte, capaci, intelligente dicono questa sì, io non lo voglio fare e invece noi lo vogliamo fare se non ce l'abbiamo quindi è giusto non avere e sì, in effetti credo che noi donne siamo l'altra parte del cielo e siamo numerosissimi, più degli uomini quindi abbiamo una grande responsabilità nel delineare l'aspetto della società e quindi nel delineare la nostra discriminazione perché quando votiamo votiamo in una certa maniera e spesso i polizieri è stato definito quando ci sono elezioni se ci sono donne, le donne votano per gli uomini e non per le donne certo se non ci sono donne intelligenti non è giusto fare una differenza nel senso che se c'è un nome intelligente è giusto votare un nome intelligente se c'è una donna non intelligente si destabilisce la competenza in quel momento ma non la differenza ma non il genere della votazione quindi noi abbiamo una grande responsabilità oggi mi voglio fermare sulla importanza e sulla diciamo sull'importanza del linguaggio della comunicazione nel determinare gli stereotipi nella nostra società e ne abbiamo tanti iniziamo dall'infanzia facendo giocare il maschietto con la macchinina dando la donna la bambola oppure mettendo il nastro rosa e celeste sembrano cavolate però questi piccoli e che diciamo abitudini quotidiane determinano differenza anche poi nella società nel lavoro con le discriminazioni sull'origine quando ad esempio le donne vanno in maternità più delle volte nell'ambito del lavoro vengono licenziate è un dato di fatto non raggiungono le carriere anche perché non sono a parte della condizione sono i maschi che le raggiungono e hanno vuol dire trova almeno un lavoro un prestito molto più istruite degli uomini e studiano molto di più quindi siamo diciamo un genere che a tutte le latitudini subiamo discriminazioni subiamo discriminazioni o mutilazioni genitali e in India in tutto il mondo diciamo le donne sono come dire sottomesse all'uomo e dobbiamo lavorare molto in questo senso e dicevo prima che il linguaggio e la comunicazione sono molto importanti e questo video che ha fatto che si chiama il corpo delle donne molto molto bello che è conto però chiarisce bene l'immagine che la televisione e il servizio pubblico ha dato in tutti questi anni è intervenuta la legge 150 del 12 del 7 giugno in cui appunto diceva di disciplinare le attività dell'informazione quindi di dare un messaggio dignitoso dell'immagine della donna e quindi questo corpo delle donne utilizzando appunto le immagini delle televisione trasmesse dà l'idea di come questa donna sia stata trattata e è trattata attualmente anche nella pubblicità voi pensate che molto spesso in televisione ce ne possiamo rendere conto la donna ha un'immagine di continua edizione alla sua bellezza quindi pubblicità sulle prele e se non si dedica alla bellezza si dedica in cucina quindi ancora questo stereotipo della donna fra bellezza e la donna catalina e la donna dedica alla bellezza continua ad essere fuoto e esistente e quindi è necessario l'immagine della donna che funziona il suo ruolo all'interno della società ci vogliono come diceva prima Elena non ci sono azine nido ma perché sostanzialmente ritengono che la donna debba stare in casa per seguire i propri figli e a volte non lo considero non etico che la donna non si occupi dei figli e di conseguenza oppure se ne occupi insieme con il marito ma c'è una cultura che dà ancora questa immagine che la donna che prestarsi in casa a curare i figli e non avere invece dei servizi sociali in welfare che sostenga la donna affinché questa possa partecipare di estremersi liberamente della società e quindi io vorrei trasversire questo video che è molto molto bello e stiamo molto attenti le parole perché l'alganato ha dato una magistrale interpretazione veramente dell'immagine della televisione su Twitter via e via l'alganato non ci immaginavo così tanta fatica così tanta roba adesso lo so che le immagini non sono solo fagini sono comunicazioni immove sapere in un'azione di certo non ci immaginavo che i varianti divisibili fossero un rispetto così preciso per altri comportamenti cercando di vedere dentro l'aspetto per vedere chi siamo magari riuscire a modificarci se non ci facciamo a capito anche i rispetti servono spesso a rispondere oltre che i denari ricordo quando Marco diceva che il suo potere incredibile propagandolo reale apprezzando reale riesce a desicurare la tv oggi è venuta e curva viene il paesante della coscienza di tutti ci toglie le radici e le fondamenta vai tu e il tiro deve metterlo che arriva vai vai cazzo chi siamo cosa vogliamo come vai le donne d'Italia uscendo in piazza dove stanno per come veniamo rappresentate i volti corpi delle donne carrile sono stati ocultati allora posto la proposizione ossessiva volgare una inqualata di bucche cose sedi la rimozione sostituzione con maschere e altri materiali che sono qui le qualità delle femmine nell'immagine di oggi donna bucche in piazza di donna di lotte recriminazioni criminale della cultura patietta muta a piano dei conduttori ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa danna di compagnia corsi e ricorsi storici Non riusciamo a scorgere in tv una natura peculiare per essere famiglie, un'identità nuova, originale, genulina, se non una di contraposizione a quella costile, a parte pochissimi casi, soltanto i minori, o in orari di vasta audience. Presenza della donna in tv, una presenza di quantità, raramente di qualità. Sì, no, signori, comprensiamo comprensiamo. La donna proposta sembra accontentare a secondari i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, applicando completamente alla possibilità di essere l'altra. Sì, è uscita di sopare i giornali, con tanti uomini. Quando domani sarà crescita con tante notte, quindi non ci saranno davanti sempre le volle. Potessero quando è una donna, no, vedere con tanti uomini e gli uomini, ridotta e autoredotta se l'oggetto sessuale, impegnati magari contro il tempo della costringia a riformazioni gustuose, costretta a cornicimento o assurda ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta competenza. Allora, partiamo subito con l'altra, poi l'altra, un'altra, 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 un'altra. Essere autentici probabilmente costituisce uno dei fondamentali dell'uomo, ma essere autentici richiede di sapere riconoscere i nostri desideri e i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni. In conseguenza, come è possibile essere autentiche? Poi, come supermaria la temilità e altro, la seduzione ci sta. Essere donna, essere femmina, profumare di temilità è un'altra cosa. D'accordo? E' un'altra cosa? D'accordo? 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 Grazie a tutti. 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 Allora... Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. 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 perché... a tutti. a tutti. ... a tutti. ... 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 la... ... 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 Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Ho già collaborato con alcune giornate settoriali, non solo sulla donna, non solo sul franzismo, ma anche, non dimenticando mai l'isabilità, anche su altre problematiche molto attuali. Io potrei contare in questa sala un po' quella che è la testimonianza diretta di una persona che è nata con una condizione diversa, con una disabilità sensoriale. Però ho preparato, diciamo, una piccola relazione che poi lascerò, sia nel metodo Brian, sia nel nero, una piccola relazione tecnica perché, secondo me, è importante poi anche riassumere un po' e fare anche un rapporto documentale, perché il lavoro del Giambattia Seminariale possono avere anche un'opportunità giusto nelle aziende. Saluto tutti voi che siete in sala, mi dispiace per quelli che non ci possono essere... coloro che sono già dati via, perché alla fine, quando si organizza un seminario, un convegno, si fa con tanta emozione, con tanta... attenzione, scegliendo gli elementi più validi delle persone che più possono dare un messaggio educativo, un messaggio anche di... di positività, portando in emergenza e in visibilità e felicità più... più grave. però spesso non è così. Ma noi confidiamo in questa racconta documentale che possa poi essere portata sui tavoli che ci governano, che ci... che legiferano verso le donne. Essere donna ed essere donna disabile può essere una doppia sfida in una società dove l'altra metà del cielo fa lo stesso gap in termini di varie opportunità. Le donne con disabilità vivono una condizione di discriminazione multipla. Come donne condividono la mancanza di varie opportunità che prevale nella nostra società. e come persone con disabilità soffrono diversi... diverse restrizioni e limitazioni di partecipazione nella vita sociale. non è questa una vera sommatoria di discriminazione quanto piuttosto una loro moltiplicazione. non vuoto di varie opportunità né rispetto alle altre donne né rispetto ai uomini con disabilità. Diciamo che abbiamo racconto un po' le tipicità che emergono in modo più sottile. Secondo l'ISTAT, lavora solo il 35% delle donne con limitazioni funzionali, invalidità o malattie croniche, gravi, a fronte del già limitato 52% degli uomini nelle stesse condizioni. sempre l'ISTAT rileva che il rischio di subire stupri è più che doppio per le donne con disabilità. il 10% contro il 4% delle donne senza limitazioni. quello che ci fa ripetere e che a parità anche di loro disabili, cioè ad essere donne poi disabili e ci penalizza, ci porta in una condizione di retrocessione. anche per quanto riguarda il caso di storia, il 21% delle donne con disabilità ha subito comportamenti persecutori contro circa il 14.000 delle altre donne. come vediamo diventa sempre più grande e più complicata. esiste una drammatica questione di genere quando si riferisce alla disabilità come pure è significativa la variabilità della disabilità quando si occupa di condizioni femminili di dolenza di genere ma sul tale lagune non vi ha ancora consapevolezza. questo ci ricorda quante ancora subiscono il silenzio per paura, per inconsapevolezza, per compiacere chi sta intorno anche negli ambienti familiari è sempre più difficile riuscire a denunciare riuscire a ribellarsi a questa sofferenza e questo perché? perché non c'è quella formazione giusta, non c'è quella quella cultura dell'essere persona prima di avere una condizione diversa. questo ci fa capire quanto, no? nel passare degli anni siamo diventati da oggetto oppure sempre in subalternanza alla priorità dell'uomo poi c'è stato il periodo delle femministe che ringraziamo perché hanno fatto tante battaglie ma anche questo non ci deve mai dimenticare che noi non dobbiamo combattere l'uomo che noi dobbiamo vivere insieme all'uomo in questa nostra società e che non possiamo mai superare l'uomo come l'uomo non può superare la donna perché abbiamo condizioni diverse siamo diversi gli uni dagli altri allora cadere nell'ignoranza nel dire che oggi noi possiamo fare tutto ciò che l'uomo prima faceva da solo ora possiamo ripensarci e capire che non eccoci come possiamo abbattere tutta questa disparità di genere la diversità di genere abbiamo visto che già nell'essere donna tante cose sono cambiate tanti diritti abbiamo tante limitazioni abbiamo superato con le varie battaglie con le manifestazioni con tanti sacrifici con ribellioni eppure ancora oggi possiamo dire che è stata abbattuta la discriminazione della donna io penso che ancora c'è tanto da fare io occupandomi della... rappresento un'associazione molto delicata dove la persona cieca se non viene formata rimane identizzata al di là se è donna o uomo e allora mi rendo conto ancora oggi che andando a... a bussare adesso le famiglie a volte delicatamente a volte molto più forza perché sappiamo cosa c'è dentro e ci sentiamo dire mia figlia sta bene questa mia figlia è felice mia figlia è contenta perché prende la pensione mia figlia è soddisfatta perché si occupa della casa cioè possiamo capire bene che questo noi ai tempi di oggi non possiamo accettare anche perché non è vero quello che viene portato alla porta all'interno all'interno magari come ho visto anche dalla racconta dei dati che c'è una sofferenza c'è un'immaginazione ci sono stupi ci sono violenze e allora questa consapevolezza ci fa intestantile e quotidianamente cercare di tirare fuori tante donne che vorrebbero essere nel mondo del lavoro tante donne che vorrebbero imparare a fare tante cose pur avendo la cecità come condizione perché spesso gli viene detto no tante cose dovrebbe fare e oggi queste cose non le possiamo sentire sapendo quanto l'unione italiana ciechi ha fatto per i ciechi che siano maschi che siano soprattutto che siano donne e se da una parte ci sono tante donne emancipate tante donne che occupano ruoli e posti importanti io sono dell'idea e come me penso tanti altri di voi che c'è pura tanto da tirare fuori io nella mia esperienza lavorativa prima come donna poi come madre non è stato facile cioè io quando ho cominciato a lavorare lo porto come esperienza ero messa un po' da parte perché ero una ragazza genia che potevo fare e questa cosa mi ritormentava mi faceva soffrire perché comunque avevo studiato io sono stata in collegio dall'età di tre anni per poterci studiare per poter emancipare e per questo io ringrazio i miei genitori che hanno visto lontano sono stati lungi in altri domani della nuova ignoranza ma ricordando nella nostra Calabria per me c'è stata un po' quella morte civile perché ho dovuto ricominciare a vivere e imparare insieme alle mie compaesare insieme ai miei come dire parenti, ugini, amici che non avevo ho dovuto ricostruire da zero una volta ritrovata e tornata in Calabria e la stessa cosa quando ho cominciato a valutare io ci ho creduto perché quello che è stato importante ed è importante in ognuno di noi eh è proprio trovare la forza di far uscire la propria identità l'esterno accettarsi per come si è perché nessuno vorrebbe essere un brutto fiore o un fiore con pochi petali o un'erba campescata io penso che ognuno di noi vorrebbe essere chi ti ora lo chiedo no? la ragazza perfetta il flanto più verde da coltivare che ne so però non è sempre così ma al di là della bellezza della bruttezza al di là della condizione fisica al di là della situazione che ognuno di noi può portarsi dietro siamo delle persone e allora una volta capito questo io penso che ognuno di noi comincia a dormitare comincia a trovare una forza per realizzare durante la mia attività lavorativa io ho lavorato nella regione Calabria per 34 anni ora mi sono appena pensionata e l'ho fatto perché ho dato quello che potevo dare ho preso e imparato ma non mi ha regalato nessuno niente e se ancora oggi c'è bisogno di leggerare che ci siano delle leggi per assumere le persone disabili allora voglio dire che ancora abbiamo veramente tanto da fare poi con questo governo che sta cercando di campestare tutto ciò che di buono ancora c'era non so che fine faremo che fine faranno le nostre le nostre logiche comportatori di amica in questo caso con la disabilità quando sono diverse perché ci deve essere sempre qualche cosa che ci aiuta ad emergere una legge che ci aiuta a farci assumere una raccomandazione perché cioè bisogna sempre comunque specificare il perché una donna disabile debba lavorare allora perché non ci andiamo a vedere direttamente come facciamo dalla donna al suo un contorno che è perdente è meno preferibile a meno preferire poi dai buoni dagli ambienti di lavoro stamattina la dottoressa talarico le varie amali ha fatto vedere i filmati che sminuiscono proprio quell'essere donne no? invece noi combattiamo per la vività al di là della condizione fisica quindi anche nel mondo del lavoro ha portato la mia esperienza non mi è stato mai regalato nulla figuratevi che quando ho avuto la mia prima gravidanza non ricordo come fosse adesso ma poi si è riuscita la seconda e poi la terza gli avvoltori andivano al mio posto alla mia stanza quando ritornavo io ho dato nulla e quindi dovevo scomitare ah no ve lo devi cercare l'altro posto ah no il posto io l'ho avuto e ve lo dovete rispettare e quindi voglio dire si scende poi in politiche basse in considerazioni maschiliste oppure eh subite proprio sulla propria pelle e tutto già l'ho fatto discriminata perchè avesse avuto il coraggio dei miei figli è così è andato di fatto però l'importante è che cosa leggere è una cosa è un punto per farvi capire quanto una persona con una condizione diversa ci mette ad arrivare eh sia nella scuola però ci sia prima perché uno se lo vuole fare e non ha altri problemi in marcia di protezione gentile può lavorare può lavorare può essere una donna come l'altra può essere una donna come l'altra io mi ricordo delle mie prime figlie quando andava all'asilo la prendevo in giro che poi la mamma c'era poi la mamma c'era poi la mamma c'era la bambina che era molto attaccata a me oggi così qua di tutto suo le rispose tu non sai che cosa vuol dire mia madre mia madre ogni giorno mi fa trovare il piatto di pasta con le polpettine mi fa mangiare dei bui la tua cosa fa? ti compra la pizza ogni giorno allora io c'è lì perché io mi ero un po' dispiaciuta perché dico vabbè hanno questa discriminazione dove i famigli anche se ci sta però da lì ho detto vabbè anche mia figlia imparerà a capire perché poi quando c'è una disabilità in una famiglia non vive solo la persona che la vive prima persona anche il contorno familiare il contesto familiare è tutta una conseguenza come quando magari nelle scuole andiamo nelle scuole e cercano di tenere il ragazzino o la ragazzina a non farne fare le stesse esperienze che fanno tutti i compagni di classe perché hanno paura perché la ragazzina non vede e non farsi amare ma io vorrei che facci una domanda quando i bambini imparano a camminare no? quante volte i cammini? non vado da io penso che tutti i cammini perché non perdono le bui ed è la stessa cosa per i ragazzini non vede è importante avere la pazienza di insegnarli a camminare anche se i cammini si sbucciano le cellule succede ai film uomini com'è? che il fatto del programma differenziato che toglie solo dai piedi lo affidano all'insegnante di sostegno eeeh oppure gli fanno il programma differenziato perché l'insegnante curriculare è ignorante è talmente ignorante che non ha capito che va a lui nessuno come tutti gli altri e lo stesso programma che utilizza per gli altri ragazzini lo devo utilizzare è da lui che nascono poi la discriminazione è da lui che nasce il concetto diverso che diverso non è questo il diverso diverso è un tutto gli uni dagli altri e secondo me bisogna lavorare molto nelle scuole tanti progetti vengono fatti e io ne ho un'inazione però ci vuole un'attenzione in più quando si fanno tutti questi progetti e queste organizzazioni perché molte volte penso che si fanno più per avere visibilità e non è quello il caso perché i bambini sono come i vestiti assorbono in modo diretto tutto ciò che noi gli possiamo dire io mi ricordo un anno abbiamo portato la Costituzione fatta da Mariano Muzzo mi pare proprio per bambini e l'ho portata io con i miei ragazzi leggendolo in dry per far capire ai bambini che non c'è differenza che c'è differenza tra bambini e mascoli tra bambini e bambini cioè ognuno diverso dall'altro e allora per farlo a breve per chiudere perché non voglio deviarvi ci sarebbe tanto da dire che tante cose che tante cose sono state fatte per le donne e con le donne e con i uomini ma dobbiamo continuare perché ancora siamo solo alla fase iniziale se pensiamo che ascoltando i piedi giornali questi uomini che sono così fragili che utilizzano solo la forza fisica e persino stamattina perché c'è stato l'endesimo per un ucidio e non si può andare avanti ma si può dire che qualcosa di sbagliato c'è nella società prendiamole per mano questi uomini parliamole perché se è vero che la donna è definita fragile e debole ma non è così perché si utilizza solo la forza fisica quindi io penso che bisogna fare un passo indietro su tutto questo aspetto quindi capire chi siamo conservare l'armonio umano stare sempre un po' di più insieme abbattere un po' questi soggiornetti che ognuno di noi anche quando mangiamo anche quando siamo in classe quando siamo al cinema andiamo a dare sempre questo benedetto che è più importante cioè siamo tutti insieme ma tutti siamo unici da soli e secondo me anche da qui parte un po' il fatto della della debolezza della persona non si è sicuri di quello che si è è fondamentale imparare a conoscersi e accettarsi per quello che si è io sono certa bene non me ne vergogno più sono consapevole ci sono delle limitazioni ma non per questo io mi fermo non potrò guidare la macchina ma la bicicletta con un tanno che io la potrò guidare non voglio dire e quindi è la stessa cosa per la persona l'identità conoscere la propria identità poi lasciare vivere l'altra persona questa è fondamentale e io con questo vi lascio lascio la mia relazione a Tania grazie perché grazie 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 saght grazie 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 ho usato è stata un'esperienza unica. Allora ho conosciuto Luciana congresso di questa scena che era organizzata all'interno stranze a Catanzal, che era letteralmente al pubblico, nel senso che non si utilizzava i cellulari, non c'era alcuna luce delle luci le varie, era completamente unica. Quindi ho conosciuto Luciana, ci siamo presentati e poi sono entrata in questa sala dove c'era questa scena e lì mi sono parlata nel mondo dei non vedenti. Ed è stata un'esperienza che secondo me, a meno di noi, a meno che una volta dovrebbe fare nella nostra vita. Un altro mondo. Prima, quando portavo a Aria, ci sono stati rumori, perché c'è stato anche il problema con l'auto, insomma, con carriamattrie e quindi lì abbiamo fatto qualche ruolo. Io ho iniziato tutti con Luciana e mi sono ricordata di quella gente e di come venivano modificati i rumori, le voci. Cioè, era una cosa assurda. Cioè, inizialmente mi sono trovata in un tavolo dove non c'era nessuno, perché ancora non era arrivato nessuno. E mi sembrava di essere in fronte a un muro. Questa è stata la mia pressione. Poi quando sono arrivata a altre persone qui, di fronte al mio posto, c'erano altre persone. E c'era un posto, oppure era un romano al ristorante. Cioè, erano delle romani conversazioni che si traceravano con i romani del proprio tavolo, ma tutto era significato. Anche i sapori erano modificati, i sapori del ciclo. Era tutto diverso. Perché il sapore stessa, non so, anche mia figlia, è arrivata sera con me e ad un certo punto non mi è riuscita a reggere e l'abbiamo voluta accompagnare il ruolo. Tanto è forte trovarsi in questo sbaglio. L'altra cosa che mi ha coltito di quella sera, quindi dopo che ho conosciuto Luciana, perché io sono andata al mio tavolo e non è che siano andati, abbiamo accompagnato. Sono stata accompagnata. Sono stata accompagnata, accompagnata, tra l'altro che mi dico le difficoltà le contrate. Per me è stato difficile che io mettere l'acqua, perché ho messo il dito, ho messo il dito nel bicchiere per capire qual è l'immagine, il limite di cui volevo mettere l'acqua. Così come ho avuto? Ho mangiato qualche panni. Quindi chi ne mi dava, invece, erano proprio come le difficoltà, sono stati le elementi, le elementi e tranquilli. Secondo me era un regolimento, perché se si era, se si devia realizzare. Quindi, si è costruita l'acqua. E poi lavoravo anche per amanti. Poi, ad un certo punto è arrivato a dociata, al nostro tavolo, eravamo, non lo so, un centinaio di persone che avevano del caso quindi lei si è avvicinata al mio tavolo, eravamo un gruppo di trenti persone, e lei le ha detto, chi c'è qua? Ho detto, ci sono io. E lei ha detto, ah ma io grazie, ho detto ma come ho fatto ricordare? Cioè, mi ha conosciuto da un cuore dieci minuti fa ed è riuscito a ricordarsi dalla voce, è riuscito a dire. Cioè, tutto questo fa capire che a volte chi è disabile, chi ha un problema, c'è probabilmente qualcosa in più di noi, la sensibilità. Cioè, non lo so come definirlo. Però, diciamo, la mia percezione è che sono loro queste, insomma. Quindi, io voglio vari scontinenti. E poi un'altra, un'ultima cosa. Nel momento in cui mi è che mi soffrisse un nome di una donna da lineare, al suo stesso anno, della testa della mamma, e la mia persona che mi è venuta in mente, in caracca, è stata luce alla rubrica. Applausi Ah, no, non lo vedo. No, volevo, intanto ringraziare ancora, ma le grazie perché lo scorso mi ha fatto preparare il premio dell'Uglesco, come mamma, è stata un bel conoscimento che mi ha fatto molto piacere. All'inizio dico perché proprio io non sono niente di speciale, però vado a dire, mi è piaciuta la cosa, è stata molto bella, anche perché è stato organizzato molto bella. Volevo solo un attimo tornare un attimo alla città di Muio. Allora, spesso sento dire, giusto per capire, chiarirci e confrontarci, che abbiamo appunto speciali, no, diverse sicuramente, ma per il semplice fatto che voi siete distratti dalla vista. Allora, voi riservate solo a quello che vedete, mentre noi dobbiamo andare per forza oltre. Quindi, guarda una bella persona, il modo di fare, il modo di camminare, come di respirare. Cioè, erano colleghi, no, che si deravigavano perché li conoscevano dal respiro, ok? O dal passo, ma perché ognuno di noi poi, cioè, ognuno di noi lo utilizza, disfrutta quello che ha, fa parte della natura dell'uomo, cioè quello di adattarsi a quello che ha. sbagliato. Allora, perché questo ci porta a cadere nell'errore, non siamo persone speciali, siamo persone che, avendo la mancanza della vista, ci appoggiavano dal libro, ci appoggiavano al senso del volentamento, al tatto che è fondamentale. Certo che non si appoggiavano la vista del volentamento, però, voglia dire, non è questo che ci deve, ma non è questo che ci deve far piangere, perché siamo già tantissimo fortunati, per quello che riusciamo a fare, almeno io ti presevo fortunata, perché nella livella si è combattuto, ho avuto veramente tante difficoltà, e quanto pianto è il volentamento del volentamento, perché piangere fa bene, non bisogna riempigliarsi. Per secondo, all'ultima presidenza, no? Volevo solo arrivare un po' che cammino presidenza, il posto era nel centralino della presidenza, quindi donne e uomini, vanno dato appunto più cattive del volentamento, più cattive del volentamento, cercavano di occupare il tuo posto, di fatti mettere il cattivo a lui non c'è, quindi di scassarti per mettere il tuo posto, un posto molto a meno a me. Poi però, quando si trattava di fare il lavoro, cioè loro con la presidenza, come se fare la centralinista era un brutto lavoro, invece non sapere quanta gente ha conosciuto, quanta è invitata, come mi è piaciuto il tuo lavoro, come mi piace soltanto con le persone. E quindi l'ultima, ma lo stavo presa con me, si è sentato a livello, ma lo che cercasse lui, è sempre il calciuga che c'è intorno, perché quando poi io sono andata a parlare con lui, mi ha chiesto scusa per lui e per i suoi dirigenti. Ma credete, in cui le colleghe stesse che conosci dalla vita, guarda il momento, non capiscono niente, non ti guarda il tuo bacio. E quindi questa è una cosa, appunto, non parlo pure al discorso di questa macchina, è andato poi in più subito. Appolto che le limiti delle donne sono proprio le donne. Se da una parte, se da una parte ci sono quelle che si svegliono, non si vendono, perché così. D'altra parte ci sono chi, per colpa del loro e per la dignità che hanno penalizzato. Io ho testamento, adesso sono tutto centrale, verbo e brutta che si trova con il cuore. Io sono andata davanti per il mio lavoro e quando ho comandato tutto, ho fatto per le mie capacità, per quello con cui ho creduto. E quando viene riconosciuto questo, poi penso che anche il più cioccio dei nuovi possa ripinare il cavo. Io lo dico veramente per le esperienze. Poi la cena al buio è un'esperienza bellissima. Noi la organizziamo poi più duramente, in modo giusto per cambiare un'esperienza diversa. Non è una cosa per pulire, perché noi non vediamo come vedete. E fa ripensare un corretta genale con le sue svolte, lo sviluppo anche per gli altri sensi anche io. Quindi io ho fatto, vietato, come diceva la ragazza, versarsi l'acqua insieme da soli. Perché non dobbiamo aspettare che succeda una catastrofe per ritorno al cervello e non sapere come muoverci. E anche a livello educativo, rehabilitativo, per spesso stare sempre facendo altri ricursi per formare gli operatori del 118, oppure dell'asta, oppure chi si occupa della produzione civile. Perché dovreste succedere tutte le loro cose, non è che vogliono prendere un sacro in braccia, magari non vanno con le condizioni, o guidare la competenza come un peso. Invece no, ognuno di voi lo mette che possa dare. E noi stiamo facendo questa formazione a questo categoria di questo male. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E цвет. Eriamo ticicisi ed adesso vinizi, si mi catturano, non si trovi passаются tipo oivoro e... Però continuiamo i nostri lavori, che comunque fin e continuano a essere testati e Grazie, grazie a tutti, buongiorno. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 quindi il 5% non c'erano, quindi si muovono già tutto il lusso, non si muovono il 5% perché costano più. I paesi poveri, fino a qualche anno fa, c'è stata una sorta di rivoluzione per fortuna, faccio l'esercizio in Kenya, in Kenya le donne poveri che hanno già nuova povertà nel periodo vestuale uscivano di casa, non c'erano più di sospetti, perché anche il portale costa di più, quindi non uscivano di casa o erano più stretti ad abbonarsi con il nenzuola, quindi eravamo a questi livelli. In Europa in un anno di Venezia, in Italia del Canada, qualche anno fa, rischiava di capire proprio su questo, perché l'associazione femminista e l'associazione di donne si sono ribellati a questo, a questa spada di amica che ripetne sulla necessità, sulla fisiologia di una donna, ok? E di fatto, quindi, assolutamente siano bene di prima necessità, perché una donna non si sceglie sia per il centro o per il donno, quindi mi sembreranno questi anche perché sono a momenti, spesso dopo una, bisogna dirlo, perché solo uscendo dalla silenzio si riesce a sospetti, quindi ci sono una proposta di remissione di qualche anno fa, che dura in un'unicità sui assomni, che si chiama Tampo Tax, Kind Tax o General Tax, questa tasta che è stata chiamata così in tutta Europa, molti stanno preoccupando, quindi l'Arna, dove le associazioni femminili sono quando presenti erano già molite, le canarie erano già molite, per voi deve essere un esempio di stati tutti free rispetto agli assomni, quindi quello è un costo concreto in termini economici, è una sorta del simbolo, un simbolo rispetto a un complessivo sistema di costo socialistico che sono pagati un po' di donne, che possono sapere che sono dei più disoccupati, se andiamo a vedere sopra un po' a sud, quindi è un costo che per il transnato magari su un compagno maschio, che alla fine paga due anni, poi si fa sbagliato, dentro questo quanto ci costa il lavoro, vi direi un'altra parola, cioè prima volete General Pay-Up, adesso vi dico, no, prima volete Tampo Tax, adesso vi dico General Pay-Up, di valore di un tipo di genere, nel senso che la qualità di lavoro, la qualità di nazione, la qualità di risultato, le donne vengono pagate almeno 16% o meno in Europa, è un problema, è un problema neanche tutto culturale, ma anche di sistema complessivo, di concessione della donna nel mondo del lavoro, e io vi dico, perché sono stati fatti studi anche su questo, adesso non mi metto a sconciolare i percentuali che devono andare a sconciolare, però sappiate che la discreditazione nei confronti delle donne e delle gattine inizia dall'infanzia, perché è stata fatta una statistica sulle paghe sconciolare che i genitori, cioè il papà, l'acqua e i bambini, quindi la percentuale di bambini che è rimasti, che ricevisce la paghetta dal genitore è più alta, sindacchi di chi si e chi no, sindacchi di paghetta effettiva, quindi già lì le donne la prendono qui, non se lo prendono inferiore la paghetta, perché ciò c'è un ruolo della famiglia avessata rispetto alla concezione degli soldi che vanno date alle donne, no? Nel mondo del lavoro, la gravidanza è un handicap anche in termini attributivi, perché stiamo stimando che a pochi mesi da fare, quando la donna ritorna sul posto di lavoro, se se ne ritrova ancora, guadagna dal sedice a venti per ciò c'è il tempo, solo perché andate in gravidanza, è un problema, è un problema, di fatto. In Europa che cosa è successo? C'è uno Stato molto contanto da noi, anche a livello di inconcepzione, non riusciamo a ipotizzare l'estra a vecchia, perché? Però l'Islanda ha emanato la prima legge europea con 200 africa, nel senso che ha previsto un collino per le insuolese, non sono state in potenzialmente più di un collino in un collino con un collino con un collino di un collino di un collino rosa e penalizza le regge le aziende che pagano diversamente i doni a uomini. E brocazia? Quella necessità? Pensiamoci a che il denito al centro è l'altro, no? Vedendo questo, quale può essere la la soluzione rispetto a questo. La soluzione, che dicevo anche a tutti ieri, è che le donne cominciano a trovare attori politici, attrici politici, non nel senso che la politica spiccia delle gerastiche del Consiglio regionale, ma politiche generatrici, politiche della società che sono statuniste nel loro presente e nel loro futuro, perché i luoghi di potere che si cambiano le cose. Nel 2011 sta tornata una legge fondamentale della nazionale, che è una legge pur conosca sulle quote di genere nelle società puntate, quindi nelle società a capitale pubblico, partecipate pubblico e puntate in corsa. Si prendeva una cosa molto semplice, che almeno un terzo dei componenti dei civili di legge sindacali, dello schermo, delle società importanti italiane, ci fosse un genere diverso, quindi le donne che non c'erano assolutamente sottorapresentato. E sapete che è successo? Durante la stessa discussione della legge nel 2011, già le aziende si portavano avanti, cercavano donne, cercavano donne capaci, maniavano curriculum, perché l'azienda molto spesso è più avanti del gestatore, più avanti della società, a volte va stimolata, come in questo caso, altre volte non viene avanti a riduce, a livello di welfare, a livello anche di attenzione, rispetto alla tutta la legge di fondamentale. In Italia, le aziende, prima ancora, molto prima, nella mia decennità, davano un concetto a un atto di ogni anno, di due settimane, alle coppie omosessuali che davano ad essere lo sposarsi, che non vogliono diventare la propria, perché i dipendenti inclusi, al pari degli altri, sono dipendenti felici, dipendenti realizzati, e che produrgo, dove gli integrati, dove gli uomini di potere, riescono a dare un apporto qualitativo alle società e alle aziende, che migliorano l'economia in complessiva. Questo ciò non mi permette di pressa, sono dati di fatto, l'ho studiato, nei paesi dove gli uomini di Stato hanno avuto questo senso. La legge in corso omosca è una legge che funziona, in questi giorni si sta votando la proroga, perché è una legge all'epoca, che è una legge dell'epoca del 2022, invece funziona così bene che vogliono prorogare, perché le donne che vengono governarsi, sono donne che danno un apporto, che fanno la differenza. E quindi puntare sull'economia femminile, che è uno degli obiettivi di Europa 2020, è fondamentale. Perché solo con la presenza dell'uomo e dell'uomo di potere, che si ritornano attrici, politiche, protagoniste della società. E questo va di pari basso un'altra questione, perché la rappresentanza di l'uomo di potere, e va di basso quella rappresentanza di genere in politica, nei luoghi della decisione politica. E quindi non solo in Parlamento, quindi nelle leggi nazionali, nelle leggi dei comuni e nelle leggi locali, ma anche dove siamo assolutamente sotto rappresentate, quindi nei consigli regionali. In Carabia stiamo lottando, con tante associazioni, tante donne, per una cosa semplicissima, una battaglia di legalità, ma anche culturale, che è quella dell'introduzione della loro pretenenza di genere per le lezioni regionali. per abbattere questo puro di Roma, questo sospitto di Cristiano, si diceva prima, che non permette di avere operazioni storici, culturali, o che invece lo maschilismo politico, per macismo e maschilismo politico, non permette di noi di accedere alle cariche pubbliche, e quindi di essere protagonisti anche delle decisioni. Maria Cazzo, sono due anni che giace, il consiglio di giornale della proposta di legge contro la violenza di genere in Carabia. E' stata riusciata nel 15 novembre, perché la giornata internazionale contro la violenza, facciava comunicato a stampa, facciava le foto, facciava i siti, dicendo che siamo sensibili a questi debattini e questi cazzi. no, fondamentalmente, sta legge, più risinanziato, 500.000 euro, milioni di euro e tutto quanto, non si è stato un nucleo, sono spostati due anni. e invece nei bilanci, le cosiddette, le cosette passano sempre. Il risulto, il risulto, il risulto, il risulto, il risulto, il risulto, il risulto rimangono. e non saranno ripariati in questa vita, speriamo nella prossima, visto che oggi continua a esserci una politica miote e nicchia di fronte a questo e preferisce magari fare qualche passerella. Quanto ci costa essere donna? Quanto ci costa essere donna? Quanto costa una donna essere donna? La realtà è ancora risultata con un handicap. Con questo legislatore si vuole che sia così, perché quando diviene più donna, si vuole dare lo strapportere ai padri violenti. Si vuole togliere, si vuole violare la attenzione vista, nulla. Affinché si introduca un'attività di azione di casi di violenza domestica. Nel senso che per questo, sulla scala 2 ci troviamo un accordo. E' violenza. Non si trova accordo sulla violenza. Non c'è un euro che possa ripagare chi vive la violenza o chi la subisce per l'altro, quindi in caso di violenza assistita. Quindi c'è così il piano dell'immediante di loro che dietro questa fiamesca di cittura di cittadinanza perfetta. Si introduce il patriarcado familiare violento. Non si legittima. Si dà la parte sulle spalle evidenti per la legge. Non la legge di parla di costituzionale che si mette alla luce di un portilo che mattabella la rispettisca proprio a calci, a ricarne. Per ogni qualcosa vista che hanno portato avanti e che non va bene perché giudicamente non regge, socialmente non regge. Come non regge il discorso sulla relazione valentale che è anticientifica ma è stata ancora dimostrata. La violazione valentale serve a insidiarle di dati dei familiari già distorte e fare il male di madri spesso disoccupate, spesso senza lavoro e che subiscono male tante violenze anche quella economica. che in Calabria secondo me è una delle peggiori, delle più vissute delle donne perché quando non c'è lavoro la donna subisce, la donna non è libera, non è libera di scegliere se abbandonare l'uomo violento o finire in povertà perché magari non sempre c'è la donna di origine che può aiutare, che può essere presente. E quindi io ripeto per la quarta volta faccio una domanda che ogni non ha una risposta completa che è quando ci costa essere donna. Grazie. 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 Allora, una breve comunicazione di servizio. Se mi avete visto armi già è per quella gente che si chiama. la prima parte della camera che sta via perché poi la telecamera di Liberi TV è un'associazione che si occupa di una potere auto culturale per cui il Liberi TV raccoglie iniziative di vento, come questa insomma, in giro per la Calabria e l'Italia per fare in modo di recuperare questa patria auto culturale diventa proprio logo on-work disponibile per tutti, altrimenti questi venti, se non vengono recuperati, registrati, messi in prodotto a disposizione, nascono e muoiono nello stesso momento in cui si celebrano, perché se non sono pezzo di registrati, però non possono essere recuperati per il futuro ed è un patrimonio culturale, il valore diventa di essere conservato. Allora, una piccola precisione, ma non è colpa tua sicuramente per un difetto di comunicazione, non solo presidente dell'Associazione di Calacertini, ma componente del direttivo nazionale dell'Associazione di Calacertini. e dopo, cioè, si stava bruciando? Ah, perché ci avevo trovato campanile. Questo da sopra è questo che mi riuscire. Si, io non lo scosto qui. Non gli da tuo astiglio, non me laignonze a questa raccorda. Ma non ci scosto nessuno. Non è piacere perché si sta lungando qui. No, si sposta suolo. No, non ce ne ce ne sono. quindi dicono 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 allora la società dedicare certi diritti si occupa dei diritti della comunità LGTQI è una cronoma un piccolissimo con un declino ma la pena vado a dire si occupa dei diritti delle persone leziti dei gay bisessuali cross gender queer intersessuali che è un contenitore diciamo abbastanza ampio di una galassia di associazioni che si sono diciamo riuniti in comunità con un'associazione virtuale e fare alcune cose e si promuovono iniziative per superare quelle che sono le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità e l'identità di genere in pratica il razzismo questa deve essere una parola chiara in realtà devo dire non condettere diciamo con una sensazione cattiva o con un proprio è un dialogo con una riflessione in realtà in realtà la parola razzismo io oggi l'ho sentita pronunciare pochissimo eppure tutti i ragionamenti che sono stagivanti si portano con un'altra manifestazione di razzismo e dobbiamo capire bene la radice di questo tema dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando perché se c'è una cosa che fa male all'associazionismo è proprio la frammentazione voi pensate che mentre non lo so le persone omosessuali che descrivono la discriminazione nei loro confronti hanno il terreno che dal mio punto di vista è un problema inattuale si chiama omofobia le persone che sappiamo non hanno neanche questo cioè sono orfani di cioè sono discriminazioni in genere ok si parla genericamente di discriminazioni mentre non lo so la violenza sulle donne ha il suo termine preciso dalla sua massima espressione che può essere il termine di cibo o la violenza di genere ci sono tra virgolette categorie che sono orfani addirittura di questa definizione e in più fa anche male a tutta questa frammentazione che c'è quello di fatto nella nostra società perché tendenzialmente nel nostro paese in Italia le associazioni come si dice lo dico in un modo un po' sardocistico piangono il sugo ma difficilmente si preoccupano anche degli altri non riescono non riescono a fare rete e questo qui non lo bene perché evitando evitando non facendone si depotenzia la loro passione e si depotenzia sia nei confronti dell'opinione pubblica sia nei confronti proprio della politica e di conseguenza del legislatore che è quello che deve porre in essere delle misure affinché si applicano i dettagli costituzionali di guaglianza di libertà e di opportunità per tutti i cittadini che fanno parte di questo paese ritorno al punto di partenza il termine razzismo lo scelto poco ma merita per questa ragione dobbiamo fare un ragionamento su questo termine partendo dall'esempio sempre cioè forse dall'esempio della manifestazione più è la parte di razzismo la discriminazione magari che viene commessa nei confronti di una persona con una pelle diversa una persona di colore ok allora ci guarda è stato discriminato per il colore della pelle questa è la più classica manifestazione di razzismo su questo penso che siamo venuti del conto e mi viene in mente Rosa Parks per esempio negli Stati Uniti e non parliamo di secoli fa parliamo di pochi recenti fa Rosa Parks che ha speso una vita per i diritti cichili contro le discriminazioni razziali Rosa Parks era una semplice lavoratrice lavorava duro una sera un pomeriggio anzi tornava dal lavoro era stanca riusciva a capire che non poteva sedersi su un posto su un qualsiasi posto in autobus e non poteva fare semplicemente perché lei era nera i posti invece a bianchi e per un pomeriggio ha detto basta io mi siedo a casa perché accada è successo il cutiferio è successo il cutiferio perché l'autobus si fermò perché ci fu l'autista dell'autobus che gli intimò di alzarsi perché quello era un posto riservato ai bianchi l'intimò di scendere fu chiamata la polizia fu sfermata fu identificata fu incarcelata per questa ragione da lì nacque questo famoso scandalo e poi poi c'è una lunga battaglia legale che arrivò fino alla porta costituzionale negli Stati Uniti e poi evidentemente negli Stati Uniti con molte difficoltà che ha finalmente la segreazione dell'anziata allora se noi ci pensiamo e pensiamo alla storia di un'autobus è un qualche cosa di profondamenti inzenzai come si fa dire oggi ad una persona tu non ti puoi sedere su quel posto perché quello è riservato alle persone o la pena in un determinato punto è assurdo su che cosa si basa questa manifestazione di razzismo si basa su una caratteristica personale ok una caratteristica della persona umana è una caratteristica però assolutamente neoprata il colore della penna non inficia minimamente l'essere persona qui non è che mettere il colore della penna possiamo stabilire su una versione buono cattiva adeguata in adeguata abita o non abita a qualsiasi attività è un zanzato quindi è odiosa questa manifestazione di razzismo perché si basa su una semplicità per che si romana o un toto e su questo siamo abbastanza nel cuore poi per razzismo noi identifichiamo anche le discriminazioni che si basano sull'origine etnica e l'abbiamo visto per esempio nella nostra massima espressione durante la seconda guerra mondiale la Shoah gli ebrei sotto il dominio nazista non erano persone tecniche non erano una razza pura non meritevole di libera anzi da rosa per cui era meritevole delle camera cresse poi ricordiamoci di tutte queste cose le abbiamo visto e le vediamo tutt'oggi sono moltissime anni fa però ho avuto i tuzzi in Rwanda voglio dire sono state massacrate più di un milione e duecento di persone per la stessa identica ragione perché appartenevano ad una etnia diversa e in quel caso anche con un aggravante anzi in molti altri paesi di un metro le discriminazioni questo tipo di discriminazioni non avvengono neanche sulla base dell'appartenenza etnica ma avvengono sul filetto religioso e sono stati diversi gli interventi proprio nella giornata di oggi che ci hanno descritto questo tipo di discriminazioni con questo noi identifichiamo il razzismo quindi il razzismo lo possiamo decodificare come una discriminazione che si commette nei confronti di una persona per una determinata caratteristica oppure per un determinato stato fattuale di cose una caratteristica può essere il culo di capelli uno stato fattuale può essere l'origine etnica se una persona è data Roma è data Roma è uno stato di fatto ma non vuol dire questo come dicevo prima per il colore della pelle che la sua origine infice il fatto se può essere una persona degna o non degna o non degna o non abbia il resto di sonesta ed è qui tutta la società adesso riapporgiamo tutto quanto il nostro e ritorniamo di nuovo all'incidente torniamo un'altra discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere qui c'è un'altra parola chiara una breve parentesi ho sentito un po' di questo vi compiace nel corso di questo confetto un po' con la parola contro ok anche io ritengo che sia sbagliata anche la lotta contro le persone che si vi faccio anche qui un esempio per come cosa sottile alla questione il consiglio regionale della Calabria ci l'abbiamo citato un po' così oggi è un po' massacrato il nostro consiglio regionale se lo credo ci sarà un motivo più di un buon ci sarà un motivo c'è in discussione che è vedendo è stata approvata in commissione adesso bisogna vedere se arriverà in aula una proposta di legge che ha che contro appunto che dovrebbe essere contro l'uomo trasformia va bene che sono le rispettazioni contro le persone 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 allora quando ci è arrivato in mano il primo testo abbiamo letto il titolo e il titolo era proposta di legge regionale contro le discriminazioni originate dall'orientamento sessuale all'elito del genere allora io la prima cosa ho pensato dentro se il testo diciamo se nel testo c'è quello che è commesso dal titolo perché è sbagliato e il titolo perché è sbagliato prima di tutto perché tu in una legge ci dice cioè tu vuoi legittimare per legge un qualche cosa che dice che le discriminazioni contro le persone omosessuali esistono perché le persone sono omosessuali cioè generate dalle persone omosessuali proposte di legge regionale contro le discriminazioni originate dall'orientamento sessuale però legge un'orientamento sessuale però non è strutturato di discriminazione cioè è proprio una contraddizione interna e poi c'è quel concetto di contro noi non dobbiamo fare delle battaglie contro le persone razziste vanno principalmente educate perché il discorso è semplice sono dure dure stratificazioni di preconcetti ok magari è semplicemente un problema educativo ma secondo queste persone qui convintamente razzista contro il mondo ok e gli spieghi ma che devi dire perché il colore della pelle di una persona la rende meno un altro che un altro che capace non capace un buon e cattivo come dicevo prima allora vedete che si incominciano a sgredolare allora se io voglio io stesso voglio avere un atteggiamento positivo e più arrogante nei confronti di tutti io non posso parlare la battaglia contro ma devo fare devo utilizzare uno spirito diverso tanto è vero che il titolo della legge è stato cambiato almeno quello questo è un cambiamento di tutto il testo e magari adesso è un governo un po' più decente e il titolo è leggermente diverso proposta di legge regionale per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e delle identità di genere semplice però il paradigme è cambiato completamente verso e vedete le parole sono importanti dirò due cose adesso sull'orientamento sessuale per raggiungare anche il campo su alcuni dubbi e per stegare perché la parola l'omofobia è fondamentale adeguata allora l'omofobia in realtà è razzismo c'è una manifestazione di razzismo pura semplice vi spiego perché nel 17 maggio del 1993 sono passate la bellezza di 26 anni e i tempi di oggi è tantissimo va bene 20 anni fa una delle istituzioni forse una delle pochissime se non l'unica che a livello mondiale non è stata mai messa in discussione né dalla politica né dall'opinione pubblica ovvero l'organizzazione mondiale della sanità si è messa in discussione tutto il mondo sull'organizzazione mondiale della sanità ancora legge va bene ha dato una definizione un'incisa l'organizzazione mondiale della sanità che posevano sessualità e non è chiaro uno spirito l'ultimo o un'incecometria a investigare eccetera eccetera ma ha utilizzato cinque parole cinque e il 17 maggio di 26 anni fa l'organizzazione mondiale spiega al mondo che posevano sessualità in tentosi di risolvere questa questione di battuta voglio dire nei secoli nei secoli dei secoli e dentro le cinque parole sono variante naturale del comportamento umano punto abbiamo raccontato tutto non poteva esserci frase più concorrenza più asciutta e più descrittiva di questi termini scientifici se l'organizzazione mondiale della sanità avessi scelto un altro termine invece del comportamento umano della sessualità umana sarebbero rimasti ancora dei percoggi attraverso i quali qualcuno potrebbe dire ah ma l'altra scelta invece no ha pesato benissimo le parole variante variante ti ha detto guarda che non lo so chi è perché ci stiamo studiando da un sacco di tempo ma sono sconosciute tantissime altre cose figuriamoci in dettaglio dell'omosessualità non è stata ancora sconosciuta per tanto tempo ma forse ci sono cose più importanti per le scoprime no e per variante c'è detto vedete che l'auga della specie umana ogni tanto sfruttano queste inquire e comunque hanno un comportamento che varia rispetto agli altri problemi e poi hanno utilizzato il termine naturale per i famosi tutto non è naturale che essere sessuale non è naturale non è un uomo non è un uomo non è un uomo e le cose più temporalistiche eccetera eccetera allora perché io dico l'onofobia qui l'organizzazione della zona che l'armonia è un uomo un uomo ha un po' toppato secondo me perché c'era l'onofobia non è un uomo 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 hanno sbagliato in realtà si tratta di un uomo è un uomo razzismo perché se l'onosessualità è una variante ma non è un uomo del comportamento umano o delle caratteristiche umane né più o del meno con un uomo della pelle e allora nella realtà di vero non ce l'ho che era fatto è un uomo razzismo chiamiamolo col proprio questo concetto negli ultimi anni si è voluto non più di 3-4 giorni fra ho ascoltato una bella intervista della famosa scrittrice Dacia Marelli su DG3 la intervistavano sulla violenza di genere sui femminici e a un certo punto con estrema violenza Dacia Marelli ha detto noi non possiamo accettare i femminici e la violenza di genere perché si tratta di l'ansismo e c'è ragione essendo una condizione è una caratteristica come è esattamente una caratteristica essere maschi ok quindi dobbiamo cambiare questo parametro dobbiamo cominciare a non andare più in fondo a cercare invece di superare interventarci dialoganti con le persone altrimenti diventiamo noi attroveranti nei confronti di quell'età perché ci dobbiamo comprenderli perché sono loro che hanno un disagio non noi bene ma te lo dobbiamo spiegare perché come abbiamo visto siccome qui non si tratta dell'oggettività delle cose ma si tratta di pregiudizi quando non si sconfina nella superstizione quando non si sconfina nella stupilità e allora basta spiegare basta moltiplicare i scorsi per spiegarlo poi ho avuto il mio intervento con un'altra osservazione ma semplicemente per non abilamente la mia intenzione di non avere nessuno è semplicemente un'osservazione che mi aiuta a spiegare il concetto mi sono dedicato ascoltando tutti quanti i quintappelli a prendere nota delle volte quando è stata pronunciata la parola diverso diversità dall'inizio del conteggio fino adesso e lo troviamo anche nel titolo va bene allora la parola diverso diversità è stata pronunciata 27 volte prima adesso a parte quelle che non può pronunciare già 27 volte però in 15 occasioni il concetto dovrebbe essere cambiato in un modo differente perché ogni volta che noi parliamo con quale di diversità rimarchiamo sempre una differenza e non siamo mai completamente liberi da un minuto di pregiudizio che non a scala magari di una fila per ascoltare uno che ne so va bene allora è sufficiente capire un concetto che è forse più inclusivo non politicamente corretto inclusivo non dobbiamo considerare tutte le variazioni che ci possono essere nelle persone umane come delle diversità ma semplicemente come delle variabili e quindi dobbiamo apprezzare non la diversità in quanto pare perché poi ci mettiamo più vicino più ricchezza tutta la sera l'altra banalità ma lo dobbiamo apprezzare semplicemente perché la varietà è una cosa bella ed interessante quindi cerchiamo tutti noi di tagliare un po' in banalitino spiazzando anche un po' e spezzando anche un po' i loro i comuni e facendo lo sforzo di sostituire diversità con varietà anche un concetto completamente diverso molto più inclusivo e utilizziamo sempre di più e spegniamo alle persone che sono razziste che cos'è realmente anche il razzismo ringrazio per l'attenzione grazie a tutti se qualcuno vuole vedere qualcosa vuole ruggere qualcosa vuole ruggere qualcosa vuole ruggere qualcosa che è una persona che è una persona disabile e quindi ha portato anche un libro che vuole spiegare quelle che sono le difficoltà che è una persona disabile può incontrare facendola passeggiata a Catanzaro ma non possiamo a Catanzaro potrebbe essere un po' di venti qualsiasi siamo nella città e quindi do subito la domanda e poi poi iniziamo a fare il buon 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 e sociale, che non vengono fatti a termini pratici, effettivamente nel contesto urbano e sociale in cui viviamo, cioè nella città di Tadansaro. Fili di un idiomino che si trovava in celebrezioni per i tempi 80, ricordo di aver partecipato a una manifestazione di piazza a Roma, organizzata dall'associazione di categoria, in cui alcuni stati gravi, si erano vinti il viso e le mani per i principi del corpo di Nero, per significare che si sentivano come gli schiarmi neri del passato, cioè non persone condannate alla abbinazione. Pesso lo stato d'animo, invece, le previsioni di cura e l'attenzione di tanto dono umano, ricorda che un giorno è affetto da dire carenze fisiche, che non poteva uscire da solo, perché mi erano certamente che il sogginino da un gruppo di giovinastri con la facente, con l'arsi e anche con l'arsi di violenza. E ricordo che un altro disatto è paraplegico, che al mio obbiato con una frase, segno un mezzo uomo. Poi ci ha chiesto di ogni anno, che a volte è più che fuggito in una spada, che non è mio nome, che si parlava dell'argomento. Una persona mi disse per assentirmi, io la disabilità la conosco meglio di me, perché l'ho scoppiata sui libri. Io invece, con risorsa, sono la mia pelle, ovvero, sono la pelle del mio primo genito, colpito fin dalla denarietà dalla malattia devastante e invadirante, e sono la pelle della mia Maria, anch'essa, che si è venuto agli occhi della prossima. Io non so cosa c'è la persona che si ha letto sui libri, so invece che cosa sono l'ansia, anche la paura, alternata alla speranza, per se in davanti, tutto si risolva. So cosa si trova quando il tuo bambino gli angeli del dolore e ti cerca, fidate nel tuo aiuto e tu sul cuore a pezzi, non puoi farti nulla. So che cos'è l'intenzione che si trova quando risulta il tuo bambino dalla sua, perché non vuole assumersi la responsabilità, allora nessuna legge lo poterà. So dei tanti interminabili anni della speranza e della risperazione, per se tanti sperare del nord, allora freddi e spiegati. So dall'indifferenza delle persone, che addirittura si sentono infastidite dalla presenza del disabile e percepire la battuta trovoce, quando morato sotto voce, ma per chi non si lo vengono a casa. So dei sacrifici, delle rinunce, delle famiglie, delle precazioni, sono dei ritenuti interventi sanitarie, sono delle tante notti di soldi, per pescare gli uomini, offrire il calore dell'allucinanza e l'indifferenza. Chissà di quello che c'è scritto un libro, e so anche della mia Maria, che per la sedentarità forzata, per la malattia, per la malattia massice, aveva perduto la sua sensazione afficurata fisica, ma io continuavo a prendere per la comunistica, perché la donna che amavo è un po' a parte di più, più piccolo, più piccolo. Ora, per dire che molte cose sono cambiate, molto potente ci sono trattinato, ma la nostra città di Catarciaro continua ad essere un atentico medico discriminatorio per gli santi, che non hanno la possibilità di muovere ci tra le disiportate, le tettoriche, per l'indifferenza di città di indirete e di istituzioni. Ho rappresentato la problematica in un video che abbiamo usato specialmente alcuni anni fa, ma ancora tra l'alimentazione attuale e che ora verrà proiettato. Voglio rispondere che alcune specie di contenuto nel video, se male interpretate, potrebbero risultare offensive, perché voglio prima rispondere quali sono i sentimenti profondi che creano in una città in cui, venendo da lontano, ho deciso di scatturire la mia tibura, espressioni che vanno intesi invece come un'infrazione verso la città che vorrei vedere diverso. Quello che ho detto è dimostrato già l'articolo di giornata prescritto sul quotidiano di Arcaggio, che ora è successo la politizzazione, lo ricorderemo per la prima ora, in anni passati, di, come si intende, non sospetti, e che è scrisi in occasione di un altro evangelismo che mi avevano fatto, cioè il furto della lampada della torta di mio figlio, e scrivevo, questo ti ho dimostrato l'amore pesante per questa città, anche se tu hai detto qualcosa di molto pesante, con grande nostre... mi lamentavo appunto, no? E poi dicevo, con grande nostre idea, il mio pensiero intorno al passato, al ricordo di di una città diversa e fondamenti umana. Dov'è, mi domando, l'avecce a Cattanzaro? Dove, molti, molti anni fa, quando arrivai a una regione lontana, tante famiglie mi invitarono a cena, pur pur conoscedermi, perché non mi sentissi solo in un'unità sconosciuta? Dov'è, l'avecce a Cattanzaro? Dove, quando entrando in un barco, mi senti che andava sempre un gignore, un po' di caffè, perché ero un forestiero? Queste cose succedono a Cattanzaro? Significativi, senti che una città nobile e antica? Dov'è, l'avecce a Cattanzaro? Dov'è, l'avecce a Cattanzaro? Perché mi ha avvenuto un'unità, la ragazza a Cattanzaro che è diventata la compagna della mia vita? Dov'è, l'avecce a Cattanzaro? Che ha giurito insieme a me per la nascita dei figli? Questo è l'avecce a Cattanzaro. Se faccio qualche critica, dovete capire che lo faccio per amore, non per capire che io. Ora potremmo... se faccio qualche riguardo a te sta mordendo. E invece, se faccio qualche riguardo. Se faccio qualche riguardo a te, da... se faccio qualche riguardo a te, da... se faccio questo... so... Grazie a tutti. 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 Aglio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti.